Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Mi fa piacere vedere gli studenti dell'Istituto di Istituzione Tecnico-Professionale di Spoleto, che sono in compagnia del professor Conti, della professoressa Maria Nardone e della professoressa Silvia Dorazio. Ecco, vi abbiamo intercettato e siete qui oggi a partecipare all'inaugurazione di una iniziativa che io considero essere molto interessante perché oggi prende il via l'ottava edizione della giornata del libro politico. Ecco, perché alla Camera dei Deputati facciamo questa iniziativa? Facciamo questa iniziativa perché qua dentro noi facciamo le leggi e allora quando si fanno le leggi bisogna saper leggere la società, bisogna avere gli strumenti adeguati per capire quali sono le questioni più importanti per i nostri cittadini, per chi noi rappresentiamo. Quindi chi scrive di politica, chi scrive di società, chi scrive di globalizzazione, chi scrive di pensiero da un contributo essenziale a chi poi deve occuparsi delle leggi. Perché la buona legge è il risultato di tante interlocuzioni. Si fanno buone leggi quando tutti possono essere parte di quello elaborato. Noi facciamo le audizioni quando dobbiamo preparare una legge. Sapete come funziona l'iter legislativo? Funziona, è un iter complicato perché il provvedimento prima va in una commissione, ci sono 14 commissioni per tema ed argomento. Quindi la materia viene prima studiata, analizzata, discussa e votata in commissione e solo dopo si arriva nella grande aula di Montecitorio che è quella che voi spesso vedete in tv. Ecco, allora questi argomenti vengono approfonditi anche grazie al contributo di chi viene a dare il proprio sapere ai deputati che sono in commissione. Noi facciamo le audizioni. Ecco, e a volte audiamo appunto soggetti che sono tecnici ma a volte anche soggetti della cultura. Perché? Perché questo serve a inquadrare il fenomeno che andiamo a trattare. Ecco, e quindi per dire che non dobbiamo perdere di vista la realtà. E allora anche appunto un'iniziativa come questa ci aiuta a ragionare sui grandi temi che sono all'ordine del giorno. Il libro politico può essere vario, qui io ho l'elenco, il programma di tutti i libri, no? E appunto sono temi che vanno dalla storia all'attualità al futuro e quindi sono libri che appunto ci inducono a ragionare. E ci induce a ragionare anche chi a livello internazionale si è distinto per il proprio pensiero. In questa legislatura noi abbiamo invitato grandi pensatori, grandi figure, premi Nobel. Ad esempio ieri, sapete chi è stato qui alla Camera ieri a parlarci? È stato qui il grande filosofo, economista, Amartya Senna, premio Nobel per l'economia. E ci ha fatto una bella lezione magistralis su Gramsci. Pensate a Amartya Senna che parla di Gramsci. È insomma una lettura molto interessante che ci ha voluto dare. Poi sono venuti anche altri personaggi della cultura internazionale. È venuto ad esempio il professor Yunus, Muhammad Yunus, colui che ha inventato il mico credito. Figura molto interessante. Joseph Stiglitz, altro pensatore di primo piano. Jeremy Rifkin che ci ha parlato dell'internet delle cose. Quindi del futuro dell'internet delle cose. E poi abbiamo avuto Thomas Piketty che è un economista. Abbiamo avuto Saskia Sassen che ci parla delle nostre città globali. Della cittadinanza globale. Quindi la rassegna del libro politico si inserisce in questa, come voglio dire, linea che noi vogliamo dare. Quella del pensiero. Quella del pensiero. Quindi io ringrazio sinceramente gli autori, ringrazio le autrici, ringrazio appunto tutti coloro che ritengono utile dare un contributo anche in questa sede. Anche in questa sede un contributo che nasce dalla loro lettura e dalla loro formazione. Quindi iniziamo oggi con questa iniziativa. Quanti sono i libri che presenteremo? 17. 17. Bene, 17 libri, quindi il 26 e il 27. Ci sono un sacco di appuntamenti. Iniziamo la mattina alle 11, domani inizieremo alle 10 e si va avanti fino a sera. E quindi sarà anche quest'anno un'occasione per riflettere e per prendere spunti interessanti. Saluto anche Carlo Gallucci che è qui con noi. in rappresentanza dell'Associazione degli Editori e ringrazio tutti voi che avete deciso di essere qui e spero di rivedervi presto alle presentazioni di qualche libro o in future occasioni. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Scusate un momento di impasso ma dopo la Presidente volevamo lasciare un attimo di rispettoso silenzio. Allora, buongiorno a tutti. Sì, credo che siamo tutti molto contenti di vedere delle studentesse e degli studenti perché questo libro parla della scuola ma parla di loro in sostanza e il libro si chiama La scuola salvata dei bambini di Benedetta Tobagi, giornalista ma anche altro e soprattutto una straordinaria autrice, scusate mi sposto perché non mi fa vedere, straordinaria attrice di questo libro. Perché questo libro? La scuola salvata dai bambini? Benedetto ce lo spiega nel prologo e ce ne parlerà sicuramente. Lei dice che siamo immersi in una situazione in cui i migranti, gli stranieri arrivano in Italia ma anche in Europa, anche nel mondo, scappano in realtà dai loro luoghi d'origine. E allora come si fa a capire di più di questa realtà? Chi sono? Sono vere le cose che dicono, che portano malattie, che delinquono? Oppure si può avere un approccio a questo tema più naturale, più tranquillo, ma per avere un approccio di questo genere bisogna conoscere. E allora Benedetta dice da dove parto? Dall'inizio, dalla fine? E allora dice parto dal mezzo. Parto nel luogo e dal luogo dove queste persone, i bambini migranti o stranieri, poi sui termini siamo sempre molto turbati da non essere politicamente corretti, diciamo i bambini stranieri, è il luogo dove troviamo loro, troviamo i loro genitori, troviamo i loro gruppi di appartenenza, troviamo le associazioni che si fanno carico di loro e allora cominciamo da qui. E comincia questo viaggio. E io devo dire che è difficile trovare una persona che non è una persona di scuola, che parla della scuola con tanta delicatezza e con tanta grazia, facendo, come dire, cancellando tutti i luoghi comuni della scuola. In genere chi scrive della scuola non ne scrive bene, gli insegnanti fanno nulloni, i ragazzi indisciplinati, eccetera. Lei entra nella scuola, da dentro, comincia a conoscerla da dentro. Quindi è un racconto partecipato di vite vere, con le loro vittorie, le loro sconfitte, le loro sofferenze, la loro gioia. Io, scusate se uso questo termine, l'ho definito un manifesto politico, scritto con la grazia della favola, ma anche con umorismo, con gioia, con allegria. Sono i bambini e le bambine stranieri i protagonisti di questo viaggio. Come i ragazzini di Enza Morante, gli illesi che salvano il mondo, i bambini che incontra Benedetta, le bambine e i bambini, sono quelli che possono salvare la scuola. Perché? Perché per aiutare questi bambini la scuola deve superare i suoi confini, deve lasciare da parte le proprie certezze e deve agire, osare. E' quello che serve ai bambini stranieri, può essere la chiave per andare incontro anche agli altri, tutti gli altri. Perché, come dice una dirigente di Milano, poi la citerà Benedetta, quel che perde la scuola finisce nella strada, ed è un costo. La diseguaglianza alla lunga si paga, e genere mostri. Scriveva, e questa è un'altra citazione che faccio dal libro di Benedetta, un medico ebreo e polacco deportato insieme ai bambini del suo orfanatrofio, Janusz Korczak, morto in campo di concentramento, diceva, è faticoso ascoltare i bambini. Avete ragione, perché bisogna abbassarsi, inclinarsi, farsi piccoli. E adesso avete torto. Non è quello che più stanca, abbassarsi. È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi all'altezza dei loro sentimenti. Insieme ai bambini i protagonisti di questo libro sono donne e uomini, dirigenti, insegnanti, amministratori, quelli che non si perdono d'animo, che affrontano le difficoltà, rimboccandosi le maniche, che non li chiamano mai problemi. E sono quelli che combattono i pregiudizi e coltivano i sogni. Non è facile, non è facile, ma è l'eterno mistero delle donne, degli uomini, di buona volontà. Quelli per i quali le difficoltà possono essere opportunità, per gli uni e per gli altri. Dicevo stamattina a Benedetta che questo libro non si finisce mai di leggere, perché è una miniera di spunti, di idee, di proposte. Sto per finire, perché dobbiamo veramente dare la parola a Benedetta. E volevo dire che la questione dell'integrazione a scuola è una questione che in Italia è stata posta sin dagli anni 90. Devo dire che il primo a porlo fu il presidente Mattarella. E poi dopo si continua a fare la risoluzione licita, la risoluzione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nel 93. E io con un po' di commozione mi sono ricordata che c'ero, non è stato facile. Non è stato facile, perché quel tema era proprio un tema lontano dalla mentalità anche di quel periodo. Perché noi scontiamo, scontavamo, adesso forse un po' di meno. L'idea di una scuola ha una sola dimensione, una cultura, una razza, una religione. Ecco, che cosa bisogna fare adesso? Bisogna intanto mettere in discussione alcune idee. L'idea della tolleranza. La tolleranza, guardate ragazzi, è la gerarchia di un punto di vista. Io ti sopporto, ti accetto, ma perché tu sei inferiore a me. Dobbiamo andare avanti con l'idea della reciprocità, con l'idea dell'uguaglianza. Ci sono tanti ragazzi e bambini stranieri nelle nostre scuole. Ci sono tanti ragazzi e bambini diversi nelle nostre scuole. Pensate a quanto ha fatto la scuola italiana per l'integrazione dei soggetti diversamente abili. Sono diversi, ma sono uguali a noi. E allora, diversi e uguali era uno slogan che ci suggerivano anni fa, si suggeriva anni fa alla comunità europea, prima che parlasse solo di banche e di soldi. Ecco, questa è la scuola della Costituzione. Questa è la scuola che noi vogliamo costruire, per la quale vogliamo lavorare, andare avanti. E c'è una domanda che si fa benedetta. Ma noi perché sopportiamo, perché molti così la considerano i diversi, perché sopportiamo quelli che creano problemi, possono creare problemi, alcuni dicono che sono brutti, sporchi, cattivi. Perché facciamo tutto questo? Perché siamo politicamente corretti? Perché siamo democratici? O perché questa è una cosa che serve, non a loro, a noi? Che serve a migliorare noi stessi. E allora perché questo ci può permettere di superare l'odio, i fondamentalismi, il fanatismo. E non è facile. Però questo libretto, anzi non è tanto un libretto, è un bel libro corposo. E questo libro ci aiuta a capire come fare, come costruire una cultura diversa attraverso la scuola. E allora lasciatemi leggere questa parte del libro in cui Benedetta parla in prima persona e poi le diamo la parola. Dicevo Benedetta si chiede perché facciamo tutto questo. E scrive Non avevo compreso davvero cosa avesse a che fare con me, un autistico, uno spastico, un ritardato, né tantomeno cosa potesse darmi. L'ho sentito finalmente, guardando quelle maschere e ha visto un'esposizione, una mostra di maschere fatte dai bambini diversamente abili. Ho capito il senso della lunga battaglia di chi dagli anni settanta in poi ha lottato per l'inclusione dei diversamente abili nelle classi. Il senso profondo che rende il lavoro con gli ultimi indispensabile, non caritatevole. Non caritatevole. E la via manestra per riconoscere quanto di loro che siano zingari, matti, handicappati, c'è in ognuno di noi. Ci rende più aperti e umani, più capaci di accogliere noi stessi e gli altri tutti interi, dunque più ricchi e generosi, più creativi, più comprensivi, capaci di vivere e di amare. In una società dominata dai normotici, parola geniale e cognata da uno psichiatra straniero, per definire la psicopatologia diffusa tra i cosiddetti normali, in una società sempre più disomana, il loro messaggio è quasi profetico. Non è un caso che nel Talmud sia scritto che dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, il dono della profezia è riservato ai pazzi e ai bambini. Bene, grazie Alba Sasso. Allora, io prima di tutto ringrazio voi studenti dell'Istituto di Istruzione Tecnico Professionale di Spoleto, il professor Conti e le professoresse Nardone e Dorazio. Io credo che sia puramente una coincidenza, però sono particolarmente contenta che ci siano studenti di Spoleto, perché io sono di radice spoletina, perché il mio amatissimo padre, che è stato un grandissimo giornalista, non so se magari i ragazzi di Spoleto avete visto che c'è una via intitolata Walter Tobagi vicino al centro, la conoscete? E' stato un grande giornalista e storico che è stato assassinato dai terroristi nell'80. Per cui per me è particolarmente bello che ci siano degli studenti di Spoleto e i loro professori, perché questo crea un legame. Il legame c'è anche dentro questo libro, perché il mio papà è la persona che più profondamente ha influenzato la mia formazione, anche se non c'era fisicamente, perché io ho letto tutto quello che lui ha scritto. Allora, in uno dei suoi diari c'era una frase di un grande filosofo del Seicento, Spinoza, che diceva che rispetto alle questioni umane, alle passioni umane, non bisogna deriderle, non bisogna piangerci sopra, non bisogna arrabbiarsi, ma bisogna cercare di comprenderle, intelligere in latino. C'è un altro filo, un'altra coincidenza che mi colpisce, perché siamo nella sala intitolata d'Aldo Moro, del quale probabilmente tutti sapete che è stato un grande statista, assassinato anche lui dai terroristi nel 1978, però prima è stato uno dei politici più importanti, e non siete tenuti, perché ancora gli stati ci stanno ricostruendo esattamente che cosa ha fatto in vita, dal punto di vista politico. Però mi piace ricordare che è stato anche un professore universitario, un grande pensatore, Aldo Moro, e lui parlava di intelligenza degli avvenimenti, proprio comprensione degli avvenimenti. Allora, questo libro è stato ricordato, è stata molto generosa Alba Sasso, che è stata molto modesta, non so se lo sapete, vi è stato detto, Alba Sasso è qui con me, io ho voluto fortemente che fosse qui con me, perché è stata insegnante, è stata lungamente deputata, è stata assessore alla scuola per la regione Puglia, è stata nel CIDI, che è il Comitato Iniziativa Democratica degli Insegnanti, scusate, con le sigle non sono brava, per cui è una persona che per tutta la vita si è dedicata a questi temi, e io mi sono trovata molto bene a parlare con lei. Adesso io vi dirò alcune cose, però vorrei essere un po' irrituale, perché visto che il libro è nato, e credo, quando mi dicono che è venuto bene, io dico, beh, per forza, io ho lasciato, perché è somiglia alla realtà, perché io ho lasciato parlare le persone che stanno dentro la scuola, no? Io sono andata in scuole primarie, ci sono un po' di voci dei bambini, ci sono molte voci di insegnanti e dirigenti, e per cui visto che stamattina ci siete voi, a me piacerebbe molto che, vincendo la naturale ritrosia che sempre hanno gli studenti quando vanno ad ascoltare un incontro, mi diceste un pochino rispetto a questo tema, degli stranieri dell'accoglienza della scuola, quali sono i vostri pensieri, le vostre esperienze, anche le vostre domande. E vorrei sentirlo, perché io sento proprio l'esigenza di partire da un fatto di cronaca, che sicuramente avrete sentito ai telegiornali. ieri c'è stato un piccolo paese nel Ferrarese, vicino al delta del Po, Gorino, che ha fatto una manifestazione per respingere l'arrivo non di cento, mille, duemila, ma di dodici donne rifugiate, che avviano il processo per ottenere l'asilo politico, che avrebbero dovuto essere alloggiati in un ostello. E io sono rimasta molto colpita perché mi ha colpito che possano fare così tanta paura dodici donne di cui ne è incinta. africane vengono tendenzialmente da posti dove hanno subito di tutto. Però io mi sono ricordata, quando ho letto questa notizia, di tante storie che io racconto in questo libro, in cui molti insegnanti e dirigenti scolastici e persone che lavorano comunque nell'accoglienza mi hanno raccontato storie simili. Per esempio una dirigente che mi ha fatto giurare sulla mia testa di non dire nel suo nome, nel posto dove questa cosa è successa per non avvelenare gli animi, ha detto, sai, noi organizzavamo un corso d'italiano per stranieri dentro la scuola e i genitori a un certo punto hanno preteso che non si facesse più perché non si fidavano che queste persone straniere entrassero dentro la scuola frequentata dai loro figli, anche se stavano separati, anche se usavano altri bagni, eccetera, eccetera. E non è un caso eccezionale. Io ho raccontato anche di dirigenti che invece si sono organizzati, è successo a Milano e non a scuola, e dicono all'inizio, anche da me, Milano, quartiere della Bovisa, per cui grande città, uno si immagina che vada tutto bene, e invece non solo alcuni genitori, ma anche alcuni bidelli, alcuni insegnanti, erano molto prevenuti rispetto all'entrare in contatto con queste persone sentite come pericolose. Allora, io comincio a chiedervelo e dopo mi piacerebbe che qualcuno, se vuole, intervenisse. E vi garantisco che qui, da parte nostra, non ci sarà alcuna forma di giudizio. Mi piacerebbe sapere se voi, per esempio, a Spoleto o dintorni, tra le persone che conoscete, per la vostra esperienza, per quello che sentite voi, se avete visto accadere episodi di questo genere, se ne avete sentito parlare, che cosa ne pensate? Ripeto, la storia di Gorino mi ha colpito tantissimo e mi ha fatto stare male, come ha fatto stare male molte persone. Però una cosa che ho imparato andando nelle scuole, da alcuni dirigenti, in particolare un dirigente di Napoli che si chiama Carmine, lui mi ha detto una cosa importante, mi ha detto, guarda Benedetta, io quello che ho imparato in 40 anni di lavoro è che le persone sono come dei bicchieri pieni, tante volte, cioè specialmente le persone che vivono delle situazioni difficili, adesso c'è la crisi, per cui persone che hanno problemi con il lavoro, che non hanno molti soldi, che sono bicchieri pieni di rabbia e di paure. Ora, quello che lui mi diceva, un bicchiere pieno non può contenere nient'altro, non può tollerare nient'altro. Allora lui, rispetto all'atteggiamento che io parlo per me, a me viene spontaneo rispetto a una storia come quella di Gorino, mi viene da arrabbiarmi e mi viene da dire, ma insomma queste persone ma di cosa parlano, che paura hanno, che turismo allontana, a fine ottobre nel delta del Po dove c'è la nebbia, cioè capirei se fosse estate, ma tra ottobre e novembre non stanno esagerando. Da questo dirigente e queste cose ho raccontato nel libro, ho imparato che forse bisogna tutti quanti un pochino cambiare il nostro atteggiamento e cercare veramente delle forme di mediazione diversa. Perché questo dirigente molto sensatamente dice prima cosa tu un bicchiere pieno devi dargli modo di svuotarsi un pochettino, no? Come si fa a far svuotare una persona che è piena di rabbia e di paura? Prima cosa gli si crea una possibilità di essere ascoltata. Io mi sono fatta una domanda da scrittrice giornalista, mi ho detto ma prima di questa manifestazione c'è stato qualche momento in cui qualcuno della prefettura, del comune, della parrocchia, della scuola ha provato un pochino a introdurre il tema dell'arrivo di questi migranti o no? Perché questo per esempio è interessante da capire, no? Perché potremmo scoprire o che il tema in realtà è stato presentato e lo posizionerà molto forte oppure potremmo scoprire che qualcuno non ha avuto il pensiero che è proprio una cosa di comprensione delle paure degli altri, di preparare le persone. Poi ho avuto un altro pensiero che mi piacerebbe scoprire e approfondire ho pensato ai dirigenti scolazzici soprattutto che si sono trovati con genitori soprattutto che non volevano i rom non volevano i negri non volevano gli stranieri a scuola allora cambiavano istituto potrei dirvi che la scuola è divisa tra dirigenti diciamo un po' pavidi che non è che siano cattive persone però pur di non contrariare nessuno lasciavano che si creasse questa specie di apartheid no? Cioè c'è un istituto comprensivo immagino che anche magari anche la vostra scuola ha più di un plesso io non lo so chiedo ai professori di venirmi in su ok? Quello che succede in tanti posti d'Italia è che in un plesso vanno tutti gli italiani e tendenzialmente il confine è anche tra persone più benestanti e meno benestanti non solo tra italiani e stranieri questo vi sto girando per l'Italia no? Perché spesso poi gli italiani più poveri stanno nelle scuole con i migranti per cui ci sono chiaramente c'è anche più malessere da parte di chi sta in queste scuole per altri motivi che non c'entrano niente con l'arrivo dei migranti e i dirigenti facendo questo mancano un po' alla funzione che dovrebbe avere la scuola che è di integrare di mescolare e di aiutare le persone questi bicchieri pieni a svuotarsi un pochettino per fare posto anche a delle persone che vengono d'altrove ma che possono portare qualcosa di buono mi fa piacere che Alba Sasso abbia letto quel pezzettino che è verso oltre la metà del libro verso la fine è un po' come un cuoricino nascosto del libro quando ho scritto e ne sono convinta che veramente può esserci un arricchimento nell'accogliere delle persone differenti da noi a 360 gradi io l'ho imparato dentro le scuole e posso declinarlo in maniera sintetica in tanti modi la prima cosa e qui vi lancio un'altra domanda non so se e quanti studenti non italiani ci siano nel vostro istituto però nelle scuole che ho visto io che sono scuole primarie la didattica ha fatto un salto di qualità pazzesco negli ultimi diciamo dieci anni perché perché chiaramente quando tu ti trovi a avere una classe dove hai bambini di 16 nazionalità diverse ti devi inventare un modo diverso di insegnare e dove ci sono degli insegnanti intelligenti per i bambini diventa molto più divertente e interessante perché invece che fare soltanto un pochino di inglese talvolta insegnato coi piedi si fanno dei laboratori in cui per esempio si esplorano lingue diverse si fanno storie e geografie in maniera molto naturale già aprendosi a tutto il mondo e io mi sono divertita molto perché sono stata in delle classi quando c'erano dei bambini appena tornati dal matrimonio degli zii in India per cui chiaramente entri in contatto con delle cose veramente con una dimensione del mondo più grande a me è ricordato io ho avuto il privilegio di poter fare l'Erasmus a cavallo tra il 99 e il 2000 e io me lo ricordo tutta la retorica sull'Erasmus è assolutamente meritata incoraggio tutti voi se potrete a fare delle esperienze all'estero perché veramente quando fai un anno all'estero da ragazzo ti cambia ti cambia tutto farlo da bambini avere questa apertura da bambini a casa tua obiettivamente funziona queste scuole funzionano chiaramente ci vuole un po' di investimento di soldi un po' di impegno l'altra cosa che è quella che sta dentro il pezzetto che vi ha letto Alba Sasso è più psicologica adesso vi invito se non avete visto i telegiornali andate su internet e guardate le interviste alla gente di Gorino che dice che non vuole queste donne migranti ok? cioè veramente fatelo io lo guardate dopo un momento in cui mi stavo arrabbiando un sacco ho avuto una forma di tenerezza perché mi sono chiesta cosa diavolo avessero a casa loro nella loro quotidianità tutte queste persone bisogna porsi questo problema se si vuole fare un discorso politico serio no? se bisogna far svuotare un pochino il bicchiere quando dico che ho scritto che entrare in contatto con persone che dal punto di vista standard sono diverse hanno degli ostacoli materiali sono in difficoltà ti cambia completamente la vita e ti cambia la visione del mondo no? e però ti insegna anche a vedere nella persona diversa da te che secondo i tuoi standard e secondo anche gli standard correnti della società sono persone sono gli ultimi potremmo dire è veramente una rivoluzione interiore perché la paura e la rabbia e questa è una cosa che se ci riflettete potete capire e sentire sulla vostra pelle tendenzialmente nascono perché prima c'è stata una qualche ferita cioè c'è qualcosa che prima è andato storto c'è un problema che non è stato ascoltato e allora questa è una cosa dove la politica si salda con la psicologia proprio nei suoi fondamenti la prima cosa la cosa veramente che migliora la vita di una persona e permette anche di superare grossi ostacoli è che ci sia un momento in cui uno riconosce in se stesso una parte debole fragile vulnerabile spaventata e cerchi di capire da dove viene la rabbia la cosa che mi ha colpito è che questa che io uso una parola forte è una verità che io ho assaporato nella mia vita sulla mia pelle ho visto che ha una ricaduta politica molto più grande non è solo qualcosa che tu affronti psicologicamente se hai avuto dei problemi con uno psicologo no è qualcosa che ha a che fare l'ho visto nelle scuole veramente con la vita delle comunità perché quello che io ho visto succedere è che io gente come quella di Gorino direttamente o indirettamente l'ho incontrata in tutta Italia io quello che ho voluto raccontare è come tante persone persone normalissime non madre Teresa Gandhi premi Nobel per la pace hanno preso in carico queste situazioni e hanno cercato con coraggio perché vuol dire affrontare un momento di impopolarità una cosa che la presidente Boldrini non ha detto è che dopo aver ascoltato metabolizzato riflettuto sul contributo dei pensatori eccetera eccetera ci vuole un momento che è strettamente politico in cui bisogna avere il coraggio di essere impopolari per un po' almeno perché comunque anche solo dentro una classe dentro una scuola in un paese se tu hai della gente che urla e dice questi non li vogliamo ci vuole qualcuno che abbia il coraggio non solo di andare davanti a prendersi i fischi e gli sputi ma anche che provi a spiegare come mai però il cambiamento reale e l'insegnamento che ho visto nelle scuole è proprio questo anche modo di mettere insieme le persone molto concreto cioè partendo dai problemi concreti dalle paure concrete dai problemi e cercando invece di tirare fuori quello che è buono io mi fermerei un momento perché mi piacerebbe se qualcuno volesse intervenire e dirmi un pochino che cosa vedete succedere a casa vostra nei pressi nel bene e nel male e anche che mi diceste se non siete d'accordo con quello che ho detto e perché allora prima di sentire i ragazzi volevo dire una piccola bella notizia sul tema dei migranti ieri è finito l'iter alla camera dei deputati di quella legge che tutela i minori non accompagnati che arrivano in Italia non si sa da dove vengono non si sa dove finiscono il parlamento italiano si è impegnato su questa cosa e l'iter della legge sta andando avanti diciamo che è una piccola buona notizia perché questi ragazzi sono veramente la disperazione di tutto insomma cioè non hanno niente non sanno dove andare non sanno chi sono si tra l'altro sono ragazzi che al massimo hanno la vostra età essendo voi siete già maggiorenni tutti ok quindi sono più piccoli quasi tutti e tendenzialmente sono stati in viaggio alcuni anche due anni due anni e mezzo io l'ho raccontato ne hanno visti di tutti i colori e potreste sentir dire ma questi ragazzi perché vengono perché le famiglie le mandano via da soli io ho incontrato alcuni di loro delle persone che lavorano con loro il motivo fondamentale per cui partono loro e senza le famiglie è che quasi certamente i genitori morirebbero durante il viaggio loro hanno maggiori chance di sopravvivenza per cui questa legge è importante perché stiamo parlando di persone che sono così disperate nella loro città nel loro paese che dei ragazzi più giovani di voi che affrontano un rischio concreto di morire lasciano le loro famiglie perché devono andare in un posto dove hanno la possibilità di sperare di rimandare poi qualche soldo guadagnato a casa però partono da soli anche perché il viaggio è talmente difficile e terribile che una persona già della mia età come sono i loro genitori che sono anche più giovani ha un rischio troppo alto di non farcela per cui concretamente parliamo di queste cose io ho anche un po' cercato di raccontare queste storie qui perché altrimenti resta tutto un po' astratto secondo me ragazzi e non è colpa vostra non è colpa di nessuno però bisogna rendere le cose più concrete non so magari c'è qualche professore che vuole rompere il ghiaccio per sapevamo tutti in realtà chi fosse perché il cognome è noto a Spoleto la ringrazio per il libro che ha scritto vorrei dire una cosa che condivido pienamente quello che ci ha detto finora ma che noi possiamo girarci guardare questi ragazzi e chiedere loro alzino la mano quelli che sono di cittadinanza non italiana su alzate la mano che ci avete qualche dubbio uno due tre e basta aspettavo di più comunque voglio dire possiamo chiedere loro se si sentono integrati o io ho l'impressione insomma che come se avessimo dalla nostra scuola ha già letto il suo libro ecco ci comportiamo probabilmente con le stesse sue bene bene beh allora maggior ragione a questo punto sarò meno morbida con i ragazzi perché se l'avete anche già letto ditemi se siete d'accordo se non siete d'accordo se c'è qualche punto che vi fa piacere che io approfondisca per esempio se avete un'idea dei contenuti così sono le telecamere che inibiscono anche il luogo provo a aspettare ancora 30 secondi fiducia sì sì anche gli adulti sono ammessi intanto ringrazio la scuola di Spoleto per avermi dato questa straordinaria opportunità io sono la mamma di Simon Luca e sono venuta per accompagnare appunto Simon Luca perché la scuola purtroppo non è in condizione di poter aiutare economicamente il viaggio di un ragazzo disabile e questa credo sia la situazione un po' di tutte le scuole la mia domanda però è un po' diciamo sui generis per cui diciamo così almeno ci vogliamo un po' di un ghiaccio se no i ragazzi si spaventano invece non si devono spaventare perché questa è una riunione normalissima quindi dovete stare tranquilli se vi viene in mente qualche domanda dovete farlo la mia domanda è questa io quando ho sentito io non l'ho letto il libro ma lo comprerò senz'altro quando ho sentito il titolo ho avuto un brivido perché ho ripensato al mondo salvato dai ragazzini ti volevo chiedere qual è stata l'influenza di questa straordinaria scrittrice nella tua formazione diciamo che amo moltissimo Elsa Morante in effetti è proprio stato nell'intenzione nell'ispirazione del titolo il mondo salvato dai ragazzini per cui diciamo così è un'influenza indiretta perché poi io scrivo di realtà scrivo di non fiction però dal mio punto di vista tra l'altro la Morante è stata una scrittrice che ha lo sguardo dei bambini e dei ragazzini e proprio ha saputo valorizzarlo in maniera somma proprio in tutte le sue opere e per cui ragazzi leggetela anche se è un po' passata di moda tra l'altro io amo moltissimo Menzogna e sortileggio che è uno dei suoi romanzi meno famosi invece secondo me è un romanzo incredibile vorrei collegarmi al tema delle risorse sono contenta che lei e Simon Luca siate potuti venire però è un tema di cui io mi sono occupata molto in questo libro e visto che siamo in una sede politica siamo contenti perché stanno discutendo una legge importante però io ho trattato molto un problema politico enorme che poi è coperto da un velo di ipocrisia molto pesante cioè io ero partita per fare un libro sulle scuole e i problemi e le risorse relative all'integrazione in realtà andando dentro le scuole ho visto che il problema numero uno non sono i migranti non sono questi temi che sono sulle prime pagine dei giornali ma il fatto che da ormai molti anni io ho messo un punto una cesura tra il 2008 e il 2009 quando alla scuola pubblica sono stati tolti 7,8 miliardi ragazzi e la scuola 8 miliardi e mezzo mi corregge Alba Sasso scusatemi nel libro ci sono i dati e i dati sono corretti io a memoria li sbaglio sempre comunque c'è stato un taglio senza precedenti e la scuola pubblica non si è mai ripresa da questi tagli e togliere risorse alla scuola pubblica vuol dire come dice la dirigente quello che perde la scuola finisce per strada vuol dire che non è garantito a tutti pienamente il diritto allo studio perché rispetto al tema degli studenti diversamente abili quest'anno è cominciato con uno scandalo che in un grandissimo numero di istituti in tutta Italia non ci sono gli insegnanti di sostegno ok questo in una situazione che già io ho raccontato perché l'ho visto in una scuola di Encona in altre scuole dove già i tagli non solo alla scuola ma al welfare nel suo complesso alla sanità pubblica fanno sì che perché ci sia l'insegnante di sostegno ci vuole una diagnosi un medico della ASL ci vuole una segnalazione poi ci vuole l'attribuzione dell'insegnante bene quello che mi hanno raccontato è che tante volte passa più di un anno prima che questo diventi reale io sono stata in una classe e mi veniva da piangere perché c'era un bambino che era stato segnalato perché aveva avuto delle grosse tragedie familiari per cui era un bambino incontrollabile tirava i quaderni attaccava briga eccetera l'insegnante era da solo in classe questo bambino rischiava di fare male a se stesso agli altri l'insegnante doveva in qualche modo cercare di contenerlo oltretutto c'erano pochi bidelli nell'istituto per cui neanche poteva fare la cosa che tante volte in emergenza si fa cioè chiami un bidello gentile io ne ho incontrati tanti che sono come dei bravi zii perché tante volte i bambini hanno bisogno anche sono segnalati ma in realtà hanno prima di tutto bisogno di un contenimento di affetto di attenzione di una presenza di una persona però capace io lì ho capito quando mi hanno detto queste situazioni possono andare avanti un anno e mezzo e io mi chiedevo ma questo bambino un anno tra i 6 e i 7 anni tra i 7 e gli 8 anni ma anche dopo per lui per gli altri compagni per la maestra che rischia l'esaurimento nervoso perché comunque fare 8 ore sempre con questa angoscia sempre con la preoccupazione di non perdere le staffe non potendo fare lezioni normalmente cioè i tagli in concreto vogliono dire questa cosa adesso vi invito quando poi tornerete a casa dopo aver visto i filmati di Gorino di così magari buttare come parole chiave quello che si è scritto intorno alla legge 107 varata nel 2015 la buona scuola e credo che noterete quello che ho notato anch'io cioè uno spaventoso velo di silenzio che escludendo sindacati blog di insegnanti per cui persone che stanno dentro la scuola però nel discorso pubblico che vuol dire discorsi dei politici articoli di giornale servizi di telegiornale questo tema è coperto proprio da un velo di ipocrisia molto pesante perché è un tema politico molto difficile no? perché chiaramente la scuola ha avuto dei tagli talmente pesanti che bisognerebbe mettere seriamente di nuovo un po' di risorse per affrontare questa che ho menzionato della disabilità come tantissime altre situazioni concrete no? e questa cosa al momento non viene fatta e visto che siete maggiorenni quindi siete cittadini votanti ci tengo a dirvi che informarsi vuol dire anche imparare a andare un pochino sotto la crosta di quelli che sono i titoli che costringono un pochino tutti a discutere sempre delle stesse cose e invece cercare di andare a vedere il problema che c'è dietro per cui voi freschi di scuola probabilmente nel vostro piccolo avrete visto anche tante esperienze tante mancanze già solo l'esperienza di questo compagno che comunque insomma il fatto che le famiglie debbano metterci del loro e spesso lo facciano io per esempio ho visto in una città come Torino Torino è una città dove tra diversi quartieri quindi tra diverse scuole c'è una differenza ci sono delle differenze di reddito abissali allora visto che nelle scuole da tanto tempo non ci sono i soldi per la carta igienica per le cose minime eccetera all'inizio dell'anno viene chiesto ai genitori di contribuire allora delle volte i genitori per raccogliere fondi fanno anche dei mercatini allora la cosa che ho visto nella scuola dove sono stata io che è in un quartiere ex industriale che si chiama Barriera di Milano lì ci vanno i figli delle famiglie di stranieri poveri e le famiglie anche italiane impoverite per cui loro fanno il mercatino e raccolgono 400 euro in un altro quartiere in un'altra scuola quartiere benestante fanno il mercatino e raccolgono 15.000 euro ok la cosa bellissima bellissima che succede perché ci sono dei dirigenti intelligenti hanno fatto un gemellaggio e l'anno scorso le famiglie della scuola ricca col consiglio di istituto hanno deliberato anziché mandare i soldi in Africa di mandare i soldi alla scuola più povera infatti la dirigente che si chiama Annunzia del Vento è una donna molto spiritosa dice sì ci dicono che siamo un po' il terzo mondo noi non ci offendiamo va bene che si attivino queste catene di solidarietà questo è molto bello sempre a Torino c'è un progetto molto bello di orchestra con il sistema Abreu quindi orchestra è nato in Venezuela proprio per integrare e dare qualcosa di bello e di motivante da fare ai ragazzini dei barrios nei quartieri più a rischio è un progetto che è arrivato in Italia grazie al maestro Abbado pace all'anima sua e funziona molto nei quartieri più difficili anche lì sono venuti a mancare i soldi e degli insegnanti che alla scuola primaria ma anche negli altri livelli di istruzione non è che guadagnino moltissimo perché un insegnante inizio carriera guadagna 1200 euro al mese a fine carriera 1700 euro al mese si sono autotassati rinunciando a parte dei loro bonus contributi rimborsi per poter far fare ai loro allievi l'orchestra scolastica questo è bellissimo io ho raccontato queste cose perché credo molto nella solidarietà tra persone vi invito a fare altrettanto quando ne avrete la possibilità però ho sollevato anche un tema politico che vi ripropongo oggi tutto questo è bello però è bello ma non è giusto nel senso che la giustizia sarebbe che e dico giustizia perché noi abbiamo un sistema politico una costituzione abbiamo anche delle linee guida del MIUR che dicono che la scuola è chiamata a cercare di appianare le differenze di partenza allora è bellissimo che dove la politica manca di sostenere di dare le gambe a questi principi le persone abbiano la sensibilità di dire mi autotasso per contribuire però è anche importante ricominciare in maniera civile e argomentata però sollevare il problema e chiedervi chiedervi mancano i soldi i soldi dove vengono messi perché non ne restano proprio per niente per le scuole cioè siamo sicuri adesso c'è in discussione la legge finanziaria ci sarà tutta questa diatriba con l'Europa eccetera eccetera ecco c'è pochissimo per la scuola fermo da 8 anni previsto un investimento che porterà nelle tasche dei docenti 20 euro al mese ok però qui il tema politico visto che siamo nella giornata del libro politico poi mi sa che il tempo è quasi finito è proprio mettere soldi nella scuola ci rendiamo conto di quanto serve non soltanto agli allievi della scuola ma a livello sociale no perché se quello che perde la scuola finisce per strada e tante volte è vero io vengo da Milano a Milano nei quartieri a più alta densità di multietnica esiste da anni un problema di gang giovanili che io non voglio drammatizzare ma esiste ok le gang giovanili sono formate di persone molto giovani nel libro io ho chiacchierando con una dirigente lei mi ha raccontato tra le mille cose che fa che sono nel suo ruolo ma sono nel suo ruolo interpretato con pienezza perché lei potrebbe anche lavarsene le mani c'è quello di stare attenta quando lei sta in un quartiere di periferia quando i suoi allievi hanno problemi con dei ragazzi che non vanno più a scuola allora ci sono rischi di scontri di conflitti insomma si fa carico di certe situazioni prima che diventino cronaca nera e se ne occupino tutti i giornali per cui il punto è sempre quello quello che perde la scuola finisce per strada vuol dire che delle persone che smettono di studiare dopo la terza media i dati ci dicono che hanno delle possibilità molto minori di trovare lavoro in un paese dove è già difficile trovare lavoro il fatto che la scuola adesso non volevo mettere in imbarazzo gli studenti o studentesse non ho visto le facce con cittadinanza non italiana però c'è un tema che molti studenti che arrivano specialmente neo arrivati hanno bisogno di essere aiutati a imparare bene la lingua italiana cioè non solo a masticarla un pochino a imparare quella che si chiama la lingua dello studio per potercela fare poi continuare a studiare trovare dei lavori anche più remunerativi se la scuola manca a questo ruolo che le competerebbe perché mancano i soldi è un problema politico molto grosso che però poi ha 10-15 anni dopo delle ricadute in termini di costi di sicurezza di ASL di sanità di servizi sociali questo è il tema e il problema grave oggi è che c'è un po' questa disattenzione nei confronti della scuola che fa pugni col fatto che tutti e i fatti di Gorino ieri lo confermano tutti i giornali i telegiornali eccetera parlano di questa emergenza migranti emergenza sociale e in altri servizi parlano dell'emergenza povertà dei dati istat delle famiglie impoverite eccetera l'importante sarebbe tornare a fare i giusti collegamenti tra le cose cioè se c'è nel paese un'emergenza di persone povere che hanno meno possibilità anche tra gli italiani e poi c'è una presenza importante di cittadini non italiani che sono qui e nella larghissima parte si parla di 5 milioni sono già residenti lavorano qui vivono qui e danno un contributo fondamentale e sono inseriti nel sistema produttivo cioè vogliamo farci due domande tenere insieme le cose e mettere poi un pochino di soldi in più quantomeno per far funzionare la scuola che è il posto dove l'integrazione quotidianamente accade qualcuno vuole approfittare degli ultimi minuti per fare una domanda o un'osservazione io ci riprovo indefessamente io volevo dire una cosa sulla integrazione dei soggetti diversamente ambili forse noi non ci rendiamo conto di come questa pratica in Italia sia diversa da quelle di tutti gli altri paesi cioè gli altri paesi soggetti diversamente ambili li tengono separati non li tengono nelle classi cioè la straordinarietà di questa esperienza che insomma data ormai da molti anni è che stare insieme aiuta a crescere gli uni e gli altri lo stare insieme cioè questa è la cosa io credo dell'esperienza per cui tanti docenti dirigenti si sono spesi genitori perché i genitori sono fondamentali anche qui tenerli insieme agli altri noi abbiamo delle statistiche per esempio i nostri bambini da AUN hanno un recupero di abilità strumentali molto più alto di quello dei bambini di altri paesi perché stanno insieme agli altri cioè la scuola forse di tante cose non se ne sa poco perché è questo mondo che esce nei film un po' così ma cioè la scuola vera quella che Benedetta ha incontrato è la scuola bella è la scuola bella che fa tante cose che produce che costruisce sapere certo ci vogliono i soldi però anche le regioni ci possono mettere i soldi noi abbiamo finanziato in Puglia il progetto Abreu abbiamo finanziato un progetto si chiamava diritti a scuola per la dispersione scolastica abbiamo abbattuto la dispersione scolastica ci sono abbiamo utilizzato i fondi europei insomma i fondi europei devono servire anche a questo non solamente a fare delle cose che non servono a niente allora adesso è mezzogiorno quindi il nostro tempo è giunto vi ringrazio per l'attenzione e saluto tutti vi ringrazio per essere stati qui e di essere stati molto attenti e grazie a te Benedetta per aver scritto questo libro che è veramente una miniera di informazioni di pensieri e di bellissime cose grazie a tutti grazie 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 benvenuti benvenuti io sono Dario Carnevale l'editore del libro che presentiamo oggi di Francesco Tornatore ecco perché bibliografia degli iscritti di Piola Torre ne parliamo ne parliamo insieme a Franco Latorre e a Emanuele Macaluso grazie intanto per la per la disponibilità e per l'ospitalità poche parole per dire che nel breve tragitto percorso fino a oggi dalla nostra casa editrice c'eravamo già imbattuti nelle figure di Piola Torre nel 2013 quando pensammo che potesse essere utile ripubblicare la relazione di minoranza presentata nel 76 dal partito comunista italiano primo firmatario appunto Piola Torre in occasione della conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia decidemmo di intitolare quel libro l'antimafia dei comunisti Piola Torre e la relazione di minoranza chiedemmo a un giovane storico Vittorio Cocco di scrivere il suo punto di vista e a Emanuele Macaluso di fornirci invece il suo punto di vista di testimone e protagonista di quegli anni sono molti i motivi che non erano anche noi adesso comunque che ci spinsono a ripubblicare quella relazione nonostante fossero passati 40 anni quel documento rappresentato e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per generazioni di militanti che da sinistra hanno guardato il fenomeno mafioso e le sue implicazioni politiche quel documento scritto dalla Torre e da Cesare Terranova porrà le basi per la nascita di quella che diventerà la legge Rognoni e la Torre e quel documento ricorda a tutti che la lotta alla mafia e lo dico con profondo rispetto non può essere demandata solo e soltanto alla magistratura a tre anni di distanza questo nuovo lavoro di Francesco Tornatore ci dà la possibilità di studiare e conoscere attraverso i suoi scritti Tornatore li raccoglie dal 46 fino all'82 anno in cui viene ammazzato insieme a Rosario Di Salvo di la Torre soprattutto dopo la sua uccisione troppo spesso il segretario del PC è stato ricordato per la sua battaglia contro l'installazione dei missili a Comiso e per la lotta alla mafia in molti ne hanno fatti spesso un santino un'icona di un'antimafia che forse non sarebbe piaciuta alla Torre che molto probabilmente mi correggeranno gli oratori non si sarebbe mai sognato di autodefinirsi un esponente dell'antimafia Tornatore il nostro autore in sette anni non si è limitato a stilare un elenco bibliografico degli scritti ma ogni voce ha accompagnato una scheda sintetica che aiuta a contestualizzare e a capire i temi trattati un lavoro certosino di straordinaria importanza che noi consideriamo uno strumento di lavoro per gli storici ma come dice bene l'autore anche un modo per le nuove generazioni o per chi ha conosciuto poco più la Torre di capire chi era per riscoprire come dice bene Ciccio quel che accadde al mondo mentre la Torre era in vita e osservare quel che accadde a lui mentre il mondo si avvitava in quel periodo la nostra gratitudine va quindi a Francesco per averci dato la possibilità di pubblicare questo lavoro così importante e la mia gratitudine personale infine va sempre a Francesco per aver ricordato l'ultima riga dell'ultima pagina Rosario Di Salvo qui dedica un pensiero senza fine troppo spesso dimenticato o relegato al semplice ruolo di autista di la Torre mentre invece apparteneva a quegli uomini che hanno dedicato la loro vita la loro forza e il loro impegno a quella strana famiglia originale che era il Partito Comunista grazie do la parola a Franco Latorre non è per piageria e neanche per la profonda amicizia che mi lega all'autore ma perché ho potuto vedere l'impegno questa opera di facile consultazione ma diciamo di impegnativa lettura è il frutto di un impegno si potrebbe dire pluriennale era ancora viva mamma Giuseppina quando Francesco andava da lei per assumere fonti indicazioni e quindi è un'attività Francesco correggimi se sbaglio che tu hai iniziato più o meno una decina di anni fa e la gratitudine anche per quanto ha appena detto Dario Carnevale perché restituisce Piola Torre alla sua diciamo figura completa è un Piola Torre a 360 gradi quello che ritroviamo dentro ecco perché senza nulla togliere ci mancherebbe altro al suo impegno pacifista o alla prima legge antimafia di questa Repubblica a cui è legato il suo nome oltre a quello dell'allora Ministro degli Interni Virginio Rognoni ma Piola Torre leggendo ecco perché ha fatto anche molto altro è vero non si svegliava la mattina con l'ossessione di andare a catturare un mafioso non era questo avevo riscontrato nel suo impegno decennale sul fronte della libertà della democrazia del progresso dell'affrancamento delle classi subalterne dalle loro condizioni di inferiorità che si trovava spesso un nemico la mafia per paradosso era la mafia ad avercela con lui non era la torre che ce l'aveva con la mafia io ho un ricordo a questo riguardo cioè riguardo agli iscritti che nei fine settimana che spesso mio padre trascorreva in famiglia quando non aveva impegni di lavoro una delle avvertenze di mamma rivolte a mio fratello Filippo e a me era fate piano papà sta scrivendo papà sta studiando perché in effetti lui dedicava la buona parte della mattinata del sabato della domenica a leggere i giornali e a prendere a punto e scrivere quelli che poi magari si sarebbero trasformati in discorsi in comizi relazioni articoli ed infatti Francesco Tornatore ne ha classificati intorno ai 1500 diretti e indiretti e lui stesso ammette il lavoro non è detto che sia completo al 100% può darsi che qualche cosa possa emergere lo dico questo con una punta di orgoglio perché non sempre il lavoro di chi ha una responsabilità come mio padre in campo sindacale o in quella politica viene abbinato a un lavoro di approfondimento di studio e di ricerca Emanuele mi può penso confermare che nella tradizione delle classi dirigenti di questo paese fino a un certo punto invece studiare approfondire formarsi era un obbligo poi ognuno lo faceva a modo suo con le sue capacità ai suoi limiti ma era un obbligo il percorso di formazione di un dirigente sindacale come è stato mio padre o politico avveniva anche attraverso questa misura la conoscenza la sapienza la capacità di trasferire pensieri in parole scritte la capacità di analizzare testi un lavoro di aggiornamento costante quindi non credo che mio padre fosse un'eccezione anzi sono convinto del contrario se no non avrei chiamato in causa ma caluso sono convinto del contrario che nella generalità dei casi così erano fatti coloro che avevano la responsabilità di dirigere questo paese nei vari ambiti lo dico con un certo rimpianto senza nessuna nostalgia non sono di quelli che gira la testa nella speranza che qualcosa che sta andando a fuoco possa produrre un cambiamento perché come nei racconti biblici mi trasformerei in una statua di sale non c'è nessuna nostalgia certo avverto un limite oggi perché non sempre chi assume quelle responsabilità dimostra di avere conoscenza degli atti e delle cose di cui si deve occupare e che non sempre chi è proposto a fornirgli gli strumenti utili abbiano quella sapienza che è fatta da un mix conoscenza approfondimento accademia esperti della materia ma poi c'è quel passaggio fondamentale di tradurre quello in un'azione in un messaggio di tipo politico si è creato un piccolo cortocircuito ecco perché ci restituisce l'immensità tra virgolette di questo genere di impegno grazie Francesco Emanuele parola Emanuele Maccavo ma io ogni volta che presento un libro partecipo a un a un confronto a un dibattito che riguarda Pio La Torre io lo faccio anche con una certa commozione una commozione che viene dal dal rapporto che io ebbi con Pio La Torre un rapporto di lavoro certo perché lui è stato nel sindacato con me poi nel partito con me ma anche per un rapporto affettuoso personale io ho conosciuto Pio La Torre nel 1947 al congresso regionale della CGL si fece un congresso regionale della CGL a Caltanissetta dove io dirigevo la camera del lavoro dirigevo la camera del lavoro di Caltanissetta e c'era di Vittorio quel congresso venne di Vittorio vestire tre giorni a Caltanissetta fece anche dei comizi e ricordo ricordo ancora quella perché l'abbiamo fatto nell'aula della provincia con gli scanni ricordo ancora come se fosse oggi questo ragazzo questo giovane perché io allora avevo 23 anni ma la Torre ne aveva 20 perché aveva tre anni meno di me così questo ragazzo un po' allampanato con questi occhi vivissimi con questo andamento questa attenzione straordinaria a tutti i lavori di quel congresso e poi io nel 47 stesso sono stato proprio in quel congresso sono stato nominato segretario regionale sono stato a Palermo e da lì comincia il mio rapporto continuo con Pio con Pio la Torre che Pio la Torre va lavora sia al partito sia soprattutto al sindacato si impegna in maniera straordinaria nella nella lotta per la terra per la riforma agraria per l'occupazione delle terre ecco quando fu arrestato nel 1948 no 49 eravamo insieme io sono stato a Corleone ad occupare le terre a Corleone e lui andò a Bisacquino che è un comune vicino e a Bisacquino la Torre i carabinieri fecero e la polizia fecero cose che non fecero negli altri comuni che non fecero nemmeno a Corleone che volevano scomprare la terra occupata e ci fu una certa resistenza un commissario di pubblica sicurezza in maniera falsa con un falso completo disse che la Torre gli aveva dato un colpo di di bastone sulla testa falso perché non ci fu mai nessuna nessun nessun rapporto medico su questo e sulla base di questo fu arrestato e scontò un anno e mezzo di galera nel processo siamo stati insieme io ero in libertà provvisoria siamo condannati alla stessa sempre insieme un anno e mezzo però lui il carcere lo aveva fatto e ci sono quelle bellissime lettere anche con con Paolo Bufalini che testimoniano già come quegli anni quei lunghi mesi passati in carcere sono state anche quelli un momento di formazione di Viola Torre perché sono 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 mesi difficili terribili perché il carcere del Lucciardone era quello che sappiamo che era e bene poi la Torre ha fatto ha fatto il segretario della Camera del Lavoro sostituendomi ha fatto il segretario regionale della Cigelle sostituendomi ha fatto il segretario regionale del partito sostituendomi quindi io con più ho avuto un rapporto molto forte anche personalmente e umanamente nella mia nella mia biografia ho ricordato che alcuni giorni prima di essere ucciso nel lunedì di Pasqua venne a casa mia a passare passami insieme il lunedì di Pasqua lui portò delle cose della Sicilia dei formaggi delle cose della Sicilia e fu allora che lui disse vada digli a Berlinguer che ora tocca a noi raccontando tutto quello che era successo le uccisioni che c'erano state ora tocca a noi la verità è che qualche giorno dopo toccò a lui e per me è sempre un ricordo amarissimo e terribile perché io poi ero direttore dell'unità e ho dovuto fare per quel primo maggio l'articolo di fondo su Piola Torre ebbene io ho fatto questa premessa per dire che ho visto questo libro con un grande interesse un grande interesse perché c'è Piola Torre c'è Piola Torre in questo libro c'è tutto lui guardate c'è tutto lui perché perché negli altri libri che ci sono stati ci sono stati altri libri che sono hanno focalizzato la sua attività contro la mafia e tutte le vicende diciamo così legate alla sua uccisione anche insieme a un ragazzo e giustamente è stato ricordato che era un militante anche lui e c'è tutto lui perché perché Piola Torre è in questa che è stata giustamente definita sia nel titolo sia nella bella prefazione fatta dal professore Nicolzia è stata definita una bibliografia non solo gli scritti insomma una bibliografia perché c'è tutto diciamo così ci sono momenti di sono raccolte tutte una serie di interventi di prese di posizione di Piola Torre che ne costruiscono la personalità che costruiscono la personalità complessa perché Piola Torre non ha fatto solo la lotta contro la mafia la lotta contro la mafia è stata collocata giustamente nel suo straordinario impegno nel sindacato nel partito come un momento essenziale essenziale non c'è dubbio di una battaglia sociale di una battaglia politica e culturale perché la lotta della mafia se viene separata come poi è stata separata e delegata ai magistrati separata da quella che è il complesso della lotta non si capisce più niente che cosa è allora la mafia se la mafia si estrae diciamo così da quello che è e più attraverso questo libro noi vediamo appunto la complessità quindi Francesco Tornatore è stato veramente gli devo fare un complimento perché ci vuole pazienza perché ci vuole anche una capacità di capire anche la persona e di capire qual è stata la qualità del suo impegno raccogliendo dei fatti che possono essere sfuggiti sono anche sfuggiti a me perché ci sono delle prese di posizione che io non ricordavo anche che possano sembrare minori sia in Sicilia sia quando era qui a Roma che lavorava con per il mezzogiorno o con Berliquerra no c'è un insieme e questo insieme ripeto fanno la personalità di la Torra cosa scegliere di questo insieme guardate posso certo raccontarvi tutto quello che c'è in questo libro ecco io dico una cosa che Pio che sappiamo la sua formazione era figlio di un bracciante di una borgata palermitana non è stato solo appunto io parlo delle prime lotte certo perché fece quelle lotte per la terra come ho raccontato no ecco io guardo le sue lotte le sue impegno nelle campagne e nella città di Palermo nella città di Palermo bene ha fatto carnevale a ricordare la relazione dell'antimafia scritta da Pio insieme a Cesare Terranova perché è importante non solo perché da un quadro di che cosa è stata storicamente come è stata la mafia ma perché c'è un racconto di delle persone anche del mondo politico che hanno operato nella città perché Pio la Torre fu anche consigliere comunale di Palermo oltre che segretario della Camera del Lavoro di Palermo consigliere comunale quello che c'è nella città come come la città si intrecciava quindi e come la città operava nel nel sistema complessivo e queste personalità e lui le indica per nome e cognome uno per uno tutti i transiti anche passati dalla destra alla democrazia cristiana che cosa è stato il sistema di potere quell'insieme ci dice però ecco di fronte a questa descrizione bisogna ricordare io lo ricordo benissimo l'impegno di Pio nella lotta per riscatto della città i suoi impegni per esempio per quelle che si chiamavano a Palermo i Catoi cioè nei quartieri queste case terribili in cui vivevano dentro la città perché il borgo era uscivi da via Macqueda e trovavi e trovavi quei quartieri e il suo impegno è e riuscì a portare alla lotta il quello che viene chiamato il popolino cioè quello che era il sottoproletariato ebbene io ricordo alcuni personaggi che la torre riuscì a portare insieme ad altri riuscì a portare a fare quindi le lotte di quartiere non solo quindi la lotta politica generale ma perché anche lì la questione sociale diciamo così della città della città di questo di questo tipo di società che c'era nella Palermo di allora lui è stato un protagonista quindi non solo delle lotte per la campagna che è stato quello che viene sempre e giustamente anche ricordato ma è stato un suo impegno nella città e sempre attraverso badate questi scritti si vede il suo impegno anche nel Palermo la campagna la Sicilia e quindi la sua la dimensione siciliana perché poi fu segretario regionale della CGL e segretario regionale del Partito Comunista e questa esperienza diciamo così ricca forte vissuta intensamente ne hanno fatto un dirigente nazionale un dirigente nel suo il suo lavoro per il mezzogiorno nel suo lavoro poi dopo l'assemblea regionale nel Parlamento nazionale anche qui ci sono delle testimonianze importanti basta pensare alla sua battaglia sul rapporto tra le regioni le lotte sociali e l'intervento pubblico e le e le e le e le e le partecipazioni statali e il modo con cui si comportavano tutta la questione della sola cassa del mezzogiorno cioè la Pio diventa un uomo del mezzogiorno quindi un uomo della nazione un uomo politico che nella nell'attività di partito nell'attività parlamentare collegando e correlando le due le due cose attraverso questi questi scritti e quindi ne fanno un dirigente nazionale un dirigente del paese nella direzione del partito nell'attività delle commissioni delle commissioni parlamentari e delle commissioni del partito e ne fanno ecco io vedo questo perché poi dirò qualcosa da questo punto di vista che la torre con queste qualità non si ferma diciamo così alla Sicilia al mezzogiorno al paese ma guarda il mondo perché è un uomo politico con una visione con una visione dell'umanità e che la sua battaglia di Comiso non è la battaglia di Comiso è la battaglia per il monto perché quello che succedeva nel monto perché c'è questa questa tensione di che allora era molto forte nei militanti e cioè un militante e un dirigente politico doveva avere una dimensione internazionale capire che cosa succedeva nel mondo nel bene e nel male abbiamo potuto fare anche degli errori ma anche con una visione appunto di quelli che sono i processi politici legati e che e protagonisti come protagonisti nel paese ma legati a una visione appunto generale a una visione a una visione del mondo ecco io io vorrei appunto concludere diciamo così questa cosa perché da questo libro io lo farei leggere lo farei vedere a tante a tante persone perché questo libro ci dice una cosa sola che cosa è la politica siccome è in discussione oggi cos'è la politica che cosa è scusa che cazzo è la politica la politica è questa questa è la politica la politica no è stata ridotta alla casta alla discussione miserabile sulle cose eccetera ormai la politica è questa non è la politica è questa che c'è in questo libro l'impegno su tutti questi temi che sono i temi essenziali della della politica legata alla lotta sociale alla battaglia culturale alla scuola ai giovani alla povera gente al popolo questa è la politica proiettata poi nel Parlamento e quindi il ruolo del Parlamento e il ruolo dell'assemblea regionale che c'è stata una decadenza si è dato spazio all'antipolitica perché si è dimenticato che cosa è la politica la politica è questa quindi io io do una importanza a questo bel libro di Francesco Tornatore perché è una testimonianza oggi oggi questa è l'attualità di questo libro oggi è una testimonianza da dire ecco anche ai giovani questa è la politica di oggi non quella di ieri certo questa è quella ma è la politica oggi il mondo è cambiato i problemi sono altri solo uno stupido può pensare di rifare le cose che faceva allora più la torre o che facevo io no nel mondo di oggi però ci sono alcuni valori alcune alcune concezioni della politica che non cambiano se è una politica cambiano i mezzi con cui fare la politica gli strumenti oggi c'è internet c'è tutto quello che c'è cambiano i temi perché oggi c'è la globalizzazione ci sono altri temi benissimo è giusto è grazie anzi un uomo politico deve individuare i temi nuovi però con quale animo con quale cioè se non ci si mette la passione politica se non ci si mette l'intelligenza politica se non ci si mette il rapporto col popolo con l'esigenza di risolvere i problemi che vengono dal popolo non c'è non c'è sinistra la sinistra soprattutto la sinistra è questa è questa la sinistra perché vedate è crudo le forze conservatrici possono adattarsi a questo modo di fare politica perché gestiscono gestiscono l'esistente è la sinistra che vuole il cambiamento perché il popolo la gente abbia una condizione nuova e diversa e si tente sempre verso l'uguaglianza e la politica che tente verso l'uguaglianza che quella la sostanza della sinistra ha bisogno della politica vera della politica ed è questo che io penso che l'insegnamento quindi che ci viene non tanto dei temi che allora c'erano ma del modo di fare politica e della concezione che non è cambiata dall'ora ad oggi grazie grazie Emanuele è sempre un piacere ascoltarti prima di dare la parola all'autore mi sia concesso svelare un semplice retroscena mai come in questo caso la copertina rappresenta in tutto e per tutto l'autore in fase di revisione di Boze Francesco si presentò con questa foto dicendo è questa la foto è di Ferdinando Scianna è scattata a bagheria l'autore è in fondo alla sala piccoletto quello accanto alla torre si chiama Peppino Speciale ed è volutamente mossa forse perché ma lo dirà lui rappresenta un uomo perennemente in movimento grazie Dario grazie Franco grazie soprattutto Emanuele Macaluso che mi onora di essere qui grazie a voi il volume della democrazia in certi periodi si espande come all'universo in certi altri periodi si comprime questo volume è sincronico contiene tutti e due i fenomeni insieme è sterminato come mi disse Macaluso suscitandomi anche motivo di allegria diciamo appena lo sfogliò per la prima volta ma è anche contratto cioè grazie ad alcuni criteri grafici che sono illustrati nelle avvertenze al lettore e nelle note introduttive si riduce al minimo il tempo necessario ai ricercatori che mi auguro siano sempre più numerosi o a chi anche episodicamente perché deve fare mettiamo per esempio un articolo intende consultare il pensiero di Pio Latorre quindi questo è lo scopo utile di questo libro che è più facile da comporre che non da presentare mi è accaduto alcune volte di avere incontri di questo tipo e mi sono reso conto che mentre io vado lì per presentare il libro e quindi cercare di spiegare i criteri e a che cosa può servire gli intervenuti in genere si aspettano che io parli di Pio Latorre quindi mi ritrovo in genere un po' spiazzato e costretto a fingermi esperto di Pio Latorre qualifica che ancora non credo di meritare qui cercherò solo di scegliere alcune tracce indifferentemente dalla loro importanza per mostrare come può essere utile un libro di questo genere che non è leggero diciamo Pio Latorre è un uomo concreto un uomo di esperienza io direi che è un produttore di politica applicata non di politica d'altro genere e qui sono certo di non sbagliare perché l'ho vista all'opera l'ho vista direttamente come lui concepiva gli ideali e la politica la sua concretezza parte sempre da grandi ideali per esempio questa è la prima traccia che voglio richiamare la pace lui pensa alla prospettiva del meditero non solo lui qui parliamo di Pio Latorre ma era un intero movimento non solo del suo partito ma di intere popolazioni il Mediterraneo come mare di pace e la Sicilia al centro di uno sviluppo integrato interattivo tra i popoli diversi del Mediterraneo un sogno meraviglioso che ancora aspetta di essere realizzato però questa sua sensibilità ideale diciamo si alimenta di praticità io ricordo bene che quel giorno eravamo una ventina poi lui avrebbe fatto molte altre riunioni ma quella fu la prima eravamo una ventina e i più giovani io tra essi rimanemmo francamente un po' perplessi pensammo che quel giorno lui la politica non la applicava troppo bene quando gli sentimmo dire mentre contraeva le spalle e allungava diciamo il collo in avanti come un falco che deve balzare in volo che avremmo dovuto raccogliere un milione di figli quindi a pensare che tolti i bambini tolti gli anziani tolti quelli che non avremmo potuto raggiungere la metà delle persone che avremmo contattato avremmo dovuto convincere a firmare il bello è che ci riuscimmo lui aveva ragione perché perché lui lo sapeva già come faceva a saperlo avevo sentito parlare io del movimento che negli anni 50 ci fu grandioso dei partigiani della pace ma scopersi pochi giorni dopo poco tempo dopo vedendo una fotografia dove c'è una ragazzina di una scuola elementare che segna una lavagna della sua classe il numero di firme che erano già riuscite a raccogliere nella campania ancora non avevano finito erano arrivate a metà avevano già superato 750 mila firme se si va a vedere in internet come ha ricordato ora Macaluso si legge che nella sole Italia a quell'epoca se ne raccolsero 16 milioni cioè un quarto un quarto della popolazione italiana compresi i bambini e gli anziani firmarono tutti un quarto Piola Torre in fondo ci proponeva un obiettivo più moderato un quinto perché gli esicinari erano circa 5 milioni raccogliendo un milione era sicuramente alla nostra portata in genere gli stimoli fondamentali che provengono dalla concretezza sono due fondamentali intanto ci offre le differenze che ci sono fra le varie cose che osserviamo poi anche le analogie io qui cito solo le differenze per non essere se prendiamo i reati politici se prendiamo cioè coloro che furono o incarcerati o indagati quando nel periodo iniziale dell'attività politica di Piola Torre quindi poco prima e poco dopo l'inizio della prima repubblica e i suoi scritti sono disseminati di case di questo genere di esempi di questo genere e poi connettendoli con la letteratura dell'epoca si riesce meglio diciamo ad avere un quadro di questo tipo di problematiche i reati politici a quell'epoca riguardavano quasi sempre braccianti contadini minatori operai sindacalisti anche alla Torre che nel 50 fa un'iniziativa di solidarietà verso una ventina che a Campobello di Licata erano stati arrestati per il Movimento della Pace tocco la stessa sorte nel 50 come poco anzi ha ricordato Macaluso e stette in galera per un anno e mezzo se andiamo alla parte finale della sua attività il periodo diciamo quindi quando sta per finire la prima repubblica e cominciare la seconda tolti i terroristi perché in quel periodo c'erano parecchi terroristi che venivano finalmente individuati gli arrestati o indagati in quel periodo cominciano a caratterizzare un nuovo filone c'erano consiglieri comunali consiglieri regionali assessori sindaci deputati senatori sottosegretari ministri presidenti di regione presidenti del consiglio quindi non parlo di chi poi veniva giudicato nei processi un altro momento diciamo parlo di coloro che poi si offrono alla sensibilità dell'opinione pubblica come interessati coinvolti in reati sospettati di reati politici questa differenza che è impressionante diventa addirittura sconcertante almeno per me quando troviamo sempre ricercando in queste e in altri in altre fonti scritte perché qui ci sono tutti gli scritti che durante la vita di Piola Torre sono comparsi sono diventati di pubblico dominio quindi quelli che lui ha scritto almeno altrettanti ma che non sono stati pubblicati durante la sua esistenza qui non ci sono qui c'è quello che è l'immagine pubblica di Piola Torre ebbene la differenza che unita alla prima la rende ancora più sconcertante agli occhi miei è che quando in simili vicende che ho chiamato qui reati politici si trovavano coinvolti dei mafiosi essi i mafiosi nella prima fase si trovano sempre in contrasto contro gli arrestati e gli indagati gli operai i sindacalisti i contadini anzi ogni tanto li eliminavano direttamente l'uccidevano nella seconda fase sono quasi sempre collusi con gli interessati a questa problematica voi vedete che arrivano spunti molto concreti e molto che sollecitano fortemente poi ci sono le analogie ma io qui approfitto del tempo a disposizione per richiamare un altro fenomeno che viene dalla concretezza ed è quando ci sono o differenze o analogie e quindi ci si divide in due partiti chi nota di più l'una e chi nota di più l'altra lo faccio perché un mese fa ho avuto modo di partecipare a un dibattito molto interessante dove si suggeriva di accostare due nomi quello di Pionador e quello di Aldomoro che è qui che ci ospita nella sala Aldomoro per me è chiaro e lì ho tentato di abbozzare diciamo un'argomentazione però insomma il tempo non era molto a disposizione forse non ci sono riuscito efficacemente per me è chiaro che sono vicini la torre e More perché vicini erano i due terrorismi che li hanno eliminati quando ci si mette a scrutare con attenzione il retroscena di fatti così gravi e clamorosi più che chiarirsele e precisarsele le idee secondo me spesso uno finisce che se le confonde perché interrogarsi e bisogna fare chi è che ha pensato questi delitti era la stessa mente erano menti diverse chi è che le ha seguiti la stessa mano mano diverse cose molto importanti ma quello che conta di più in politica è quali effetti si sono determinati a causa di fatti tanto gravi da praticante di politica applicata come accennavo prima la torre in primo luogo osservava gli effetti di ciò che accadeva nel mondo politico italiano e internazionale prima ancora di interrogarsi sulle intenzioni e di chi era stato a concepire quegli altri ora il fatto è che ci sono soggetti ci sono attori che fanno politica e non solo quella che non si incontrano mai eppure possono colpire lo stesso bersaglio ce ne sono altri che si incontrano solo dopo che hanno agito separatamente l'uno dall'altro faccio un esempio che mi viene è una suggestione che mi spinge a fare una illazione solo per intendere questo comprendere che non si deve necessariamente scoprire che è sempre quello lì e sempre quel complotto lì a spiegare tutto quello che accade spesso invece non è un unico complotto ma convergono diverse azioni in una stessa maniera quindi la mia è una illazione per rendere meglio questo tipo di idea l'esempio l'esempio è questo la città più turbata e intimorita dalla strage di piazza fontana nel 1969 non c'è dubbio che è Milano i morti sono lì i lutti sono lì la banca dell'agricoltura è lì non c'è dubbio ma a seguirla in una graduatoria che volessimo fare del terrore che si diffuse in quei giorni nelle città italiane subito dopo Milano io sono convinto che c'è Palermo ma perché tu hai questo pallino perché siccome sei di Palermo è sempre Palermo che deve no è perché meno di 48 ore prima della strage della banca dell'agricoltura a Milano c'era stata la strage di Viale Lazio a Palermo protagonisti i futuri capi dei capi di Cosa Novo erano lì che sparavano quindi c'è voi ve ne rendete conto un effetto retrattivo i palermetani già sconcertati sconvolti dalla strage di Viale Lazio arriva la strage di Milano è chiaro che hanno un richiamo che li preoccupa ancora di più ma quello che io comincio a pensare è che anche i capi mafia apprendono è probabile che se non l'avessero capito prima proprio in quei giorni i futuri capi dei capi apprendono per così dire le virtù lo dico tra virgolette del terrorismo quello non specifico cioè non il terrorismo tipo la strage di Portella dove c'era un bersaglio un nemico chiaro definito questi che avevano già fatto il sorpasso perché nelle elezioni regionali del 47 in Sicilia dopo le prime quelle che elessero l'assemblea costituente c'era stato il sorpasso comunisti e socialisti presero più molti più voti della democrazia cristiana e quindi avviene un colpo chiaro quindi si va a Portella della Genetra perché lì ci sono quelli che hanno diciamo questo grave questa grave responsabilità no allora apprendono perché lo vedono anche loro erano pratici che cosa succede quando c'è un terrorismo che si rivolge indifferentemente a chiunque si trovi in quel momento e poi diventerà una pratica continua non solo da parte dei mafiosi ma da tante altre forze oscure io trovo che erano vicini anche i due fronti della medesima battaglia nella quale caddero l'onorevole Aldomoro rappresentante del popolo italiano come c'è scritto nella Costituzione in ordine ai deputati e come accadde all'onorevole Piero Torre rappresentante del popolo italiano anche lui qual era questa battaglia? era il completamento della democrazia italiana riconoscere a tutti i cittadini indistintamente il diritto di governarsi oltre che di esprimere liberamente il proprio voto Moro la chiamò alternanza quindi bisognava che partiti che per 30 anni erano stati uno sempre al governo e uno sempre all'opposizione potessero darsi un'alternanza e quindi essere alla pari la torre seguendo Berlinguer la chiamò alternativa non solo lui naturalmente qui c'è Macaluso che ce lo può confermare la chiamò alternativa democratica e prima ancora compromesso storico ma la sostanza quella era e i portabandieri di questa via per unire l'Italia furono entrambi abbattuti uno a Roma e uno a Palermo ora il fatto è che in quel dibattito in cui io ebbe il piacere di partecipare ho notato a parte le argomentazioni molto interessanti che quasi tutti gli oratori cominciavano a dire c'è beh ma la torre al domore avevano curriculum diversi appartenevano a fasi politiche diverse insomma è sembrato che connessioni non è che ce ne fossero granché tra questi due personaggi e le vicende politiche decisive per l'Italia nei quali sono stati coinvolti e di cui erano protagonisti ne ho ricavato la sensazione che c'è ancora una visione della realtà italiana che si deve ricomporre si deve integrare e ho il sospetto forte che oggi l'Italia non riesce a unirsi a essere coesa come più volte ripete il Presidente della Repubblica ad ogni occasione adesso anche perché continua a essere incapace di vedere unito il proprio passato ad esempio c'è chi continua a non vedere la convergenza fra il terrorismo chiamiamolo del centro nord il terrorismo politico e il terrorismo chiamiamolo del centro sud il terrorismo politico mafioso contano i fatti come dicevo e mi ria concludere dopo gli anni di La Torre e non solo di lui di Mattarella di Dallachiese e di tanti altri ci sarebbe stata un'altra fase ancora più grave di attacco alla democrazia italiana le bombe del 92-93 i timori del Presidente del Consiglio di allora Carlo Azzeglio Ciampi che addirittura ci fosse già in corso un colpo di Stato se ne riparla ora a proposito delle sue agende da Presidente della Repubblica è perché in quella precedente la fase precedente quella di Pio La Torre che ora abbiamo ricordato l'unità dei partiti del Paese intero si era fermata alla lotta al primo tipo di terrorismo e non era stata altrettanto determinata nella lotta contro il secondo tipo di terrorismo concludo sottolineando l'attualità del pensiero e dell'esperienza che c'è qui e faccio un solo esempio di recente si è molto discusso di oligarchia di oligarchia e democrazia io raccomando di andare a consultare gli autografi di Pio La Torre degli anni 50 e 60 lì vive nella sua appassionata battaglia nelle sue descrizioni un esempio pratico non teorico di oligarchia lì c'è sin dal suo nascere e poi nei suoi purtroppo sviluppi la fotografia di un cosiddetto lo si chiamava così gruppo di potere che a Palermo ma anche ad Agrigento ha il predominio della città il predominio politico della città e questi qui questo è molto interessante non pensavano di stare comportandosi in modo riprovevole questi erano convinti che fosse giusto comportarsi così gli oligarchi della città di Palermo che poi ha dato esempio e purtroppo è diventato un sistema di potere che si è allargato oltre Palermo e Agrigento e ha investito la regione siciliana ha prodotto soprattutto in una certa fase una trasfigurazione lo sfascio di un regime per la corruzione per le clientele per l'intreccio diretto e indiretto con la mafia fu fatta diventare responsabilità dell'autonomia in quanto tale quindi non erano gli oligarchi che avevano provocato devastanti effetti sulla realtà era l'autonomia era lo statuto dell'autonomia era l'idea stessa di avere realtà istituzionali come la Sicilia e il statuto speciale io non vorrei che oggi i guai dell'Italia si finisse per pensare che sono dovuti più alla carta costituzionale che non alle responsabilità politiche ma lì abbiamo anche un esempio pratico di che cos'è la democrazia che in primo luogo lo fu allora e deve continuare ad esserlo oggi possibilità di combattere il deleterio sistema chiamato oligarchia e che il più dannoso che si possa dare come gli esempi concreti che ci racconta Piero Torri nei suoi scritti ci possano essere un grande scrittore Gabbiel García Márquez Sostiene che la vita non è quella che si è vissuta ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla Marchia si c'entra con Pio La Torre evidentemente no non c'entrano in via diretta e che a me piacciono entrambi poi ho notato che sono nati lo stesso anno e ho notato anche che Gabbo il Pio Nobbero l'ha avuto nel 1982 negli stessi giorni che Pio La Torre veniva ucciso quindi mi ha impressionato questa cosa il senso di questo volume è molto più umile anche se ho avuto il lusinghiero apprezzamento di un giornale che commentando nell'uscita lo definiva il romanzo delle lotte di Pio La Torre il senso del volume è molto più umile evitare che Pio La Torre venga immortalato come si suol dire con l'immagine cruda della sua morte per l'appunto ma avvicinarsi di più a come era da vivo alla sua attività alle sue generose battaglie che sia ravvivato tutto qui grazie il volume se vi interessa è mio certo ci avevano dato un'ora l'abbiamo rispettata grazie a tutti grazie 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 No, spero di no. O abbassare, o abbassare. Esatto, perfetto. Io non conto, conto il libro. Buon pomeriggio. Riprendiamo la rassegna, il volume della democrazia, giornata del libro Politico a Montecitorio, iniziata questa mattina e giunta all'ottava edizione. Prima del libro mi presento, sono Sergio Amici, il presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare. Vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio naturalmente l'autrice del libro che mi ha voluto coinvolgere in questa conversazione sugli spunti e i temi che emergono dalla sua opera. L'autrice che è appunto qui alla mia destra è Laura Trovellesi-Cesana, una collega giornalista politica che ha un'ampia esperienza in tutti i tipi di media, visto che ha lavorato per le agenzie, per i siti internet, per i quotidiani, per le tv. E da ultimo è stata vice direttrice dell'ufficio stampa e internet del senato. E proprio diciamo da questa ultima esperienza che è nato il volume di cui oggi discutiamo. La fabbrica della democrazia, come comunicare il Parlamento. Un testo che approfondisce le tematiche legate appunto alla maniera, ai modi con cui rendere trasparenti le istituzioni pubbliche, far conoscere tutti i vari processi decisionali che maturano sia nella pubblica amministrazione che nel Parlamento. Ed è un tema sicuramente attuale perché diciamo coinvolge tutta la problematica relativa alla necessità di attuare un circuito virtuoso tra istituzioni e opinione pubblica. Soprattutto in un'epoca in cui il virus dell'antipolitica sembra pervaderci in maniera sempre maggiore. E proprio uno degli antidoti a questo virus può essere un'informazione sulle istituzioni e dalle istituzioni che permetta un circuito virtuoso, un collegamento tra il cittadino e l'istituzione stessa che superi quel distacco che vediamo sempre più crescente. A questo proposito vorrei dar voce alle autorevoli parole di Stefano Folli che ha scritto la prefazione a questo testo e Folli infatti scrive Ci sono due modi per fare del buon giornalismo. Il primo è quello più noto e antico, raccontare la realtà fatta di eventi e di persone, decifrarla a vantaggio di un'opinione pubblica sempre più esigente. Il secondo è relativamente recente, ma non meno importante. Ha il compito di dare espressione alle istituzioni, il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale e di renderle trasparenti per quanto è possibile. Istituzioni più vicine alla società civile, quindi, senza che questo si traduca in una perdita di autorevolezza. Anzi, è il contrario. Spesso sono le chiusure e gli arroccamenti immotivati a segnalare la crisi di certi istituti. Ecco, quindi, come dicevo, questa necessità di rendere il più possibile trasparenti le istituzioni. E diciamo che già al Cide de Gasperi, nel 1951, e qui cito un altro passo del volume di Laura, esattamente presentando la rassegna mensile Documenti di Vita Italiana, edita dal Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, scriveva tra l'altro Lo Stato è venuto, assumendo nel corso degli ultimi decenni, una somma di funzioni che ne fanno, in realtà, il protagonista della vita collettiva. È inconcepibile che in queste condizioni, esso, a differenza degli agenti privati, non sia fornito di strumenti di comunicazione con la pubblica opinione. Lo Stato, prima ancora che il diritto, ha il dovere di informare i suoi cittadini sugli orientamenti della sua attività e sui dati delle sue realizzazioni. Ha il dovere di informare i contribuenti sul modo come vengono impiegate le entrate di bilancio. Ecco, e qui, diciamo, viene subito alla luce uno dei nodi principali, uno, diciamo, degli stimoli maggiori che fornisce questa opera. Vale a dire come, dove tracciare il confine tra ciò che è propaganda e ciò che invece è un'informazione che deve fornire l'istituzione. Ora è chiaro che nel dibattito politico è inevitabile che si scenda nella propaganda. Ora, volendo fare un esempio che si concreta, legato a quello che sta accadendo in questi giorni, è evidente che quando maggioranza del Governo da un lato e opposizione dall'altro si confrontano, uno dirà che le tasse stanno aumentando o diminuendo, l'altro dirà che invece devono essere diminuite ancora di più. È inevitabile che magari ci si debba anche abituare al QQ, in cui Italia non c'è più. Però poi subentra un momento in cui i cittadini hanno diritto di sapere quante tasse effettivamente devono pagare, come le devono pagare, dove le devono pagare e anche perché le devono pagare. Perché, appunto, come sottolineava in quel passo che abbiamo letto Poganzi De Gasperi, poi occorre sapere dove vanno a finire i soldi che i cittadini versano al bilancio. E quindi ecco che la necessità di fissare questo limite è un po' una sfida che, diciamo, emerge dalla lettura di questo libro di Laura, ma è indubbiamente una sfida che va affrontata nel futuro, perché effettivamente ancora, diciamo, è difficile capire dove finisce la propaganda e dove invece inizia la necessaria e debba iniziare la necessaria informazione istituzionale. Sicuramente questo potrebbe essere un tema per un futuro libro. Laura, devo dire che in questo volume affronta tutta una parte relativa alle norme che in un certo qual modo cercano di fissare gli obblighi per la pubblica amministrazione, per informare i cittadini. Mi traccio anche netta la distinzione tra quello che è il ruolo di un portavoce politico e quello che è invece il ruolo di chi lavora negli uffici stampa delle istituzioni ed è chiamato proprio a dar voce all'istituzione in quanto tale e non a chi in quel momento la rappresenta. Indubbiamente il tema può diventare forse più facile se ci si sposta nella visuale del Parlamento, nel senso che qui forse è meno complicato distinguere ciò che è dibattito politico e ciò che invece è l'informazione che riguarda più l'istituzione Parlamento, più quello che avviene, che riguarda proprio i lavori parlamentari. E questo può essere anche una questione molto stimolante perché poi è effettivamente una questione molto stimolante ma anche una sfida sia per chi lavora nell'istituzione sia per chi come i giornalisti parlamentari sono chiamati a raccontare l'istituzione per venire incontro a quell'esigenza che sottolineavo all'inizio di riavvicinare l'opinione pubblica alle istituzioni stesse perché effettivamente l'informazione parlamentare poi non può ridursi a un dibattito, a un confronto che poi diventa stucchevole semplicemente tra casta ed anticasta. E appunto parlando di informazione istituzionale del Parlamento penso che sia giusto dare la parola all'altra oratrice che è qui a questo tavolo, va a dire la dottoressa Iolanda Cardarelli, consigliere parlamentare e già direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale dell'ufficio stampa e internet del Senato. Grazie, grazie al dottor Sergio Amici e mi consentirete prima di entrare nel merito anche a me di fare un ringraziamento particolare all'autrice del volume, la dottoressa Trovellesi. Quando mi è stato chiesto di essere presente a questo incontro io ho accettato con entusiasmo perché l'argomento è un argomento che mi ha visto è stato parte della mia attività lavorativa ma non immaginavo, e questo lo dico con molta franchezza che la lettura di questo libro mi coinvolgesse così tanto dal punto di vista emotivo. In effetti è un libro che dà sistematicità a concetti a questioni e a problemi attinenti all'informazione, la comunicazione istituzionale o la comunicazione politica che ci hanno visto spesso con la dottoressa Trovellesi discutere, dibattere, affrontare anche con quella passione e quella entusiasmo che contraddistinguono anche il carattere dell'autrice stessa. Quindi grazie veramente molto. Entrando nel merito, io entrerei nel merito insomma il mio punto di vista non può essere che il punto di vista di chi ha lavorato nelle istituzioni, ha fatto parte delle istituzioni e ha affrontato queste problematiche dall'interno e partirei proprio dal volume o meglio dal titolo stesso, titolo e sottotitolo del volume dove a me l'attenzione è caduta soprattutto su due parole che qui sono presenti e cioè democrazia e comunicare il Parlamento. L'intuizione che ha Bede Gasperi negli anni 50 di cui ha parlato anche il dottor Sergio Amici e cioè che le istituzioni utilizzando i mezzi di comunicazione rispondevano non solo a un dovere di trasparenza ma anche veicolavano la democrazia in qualche modo diventando più trasparenti è ancora più vera per un organo e per un'istituzione quale è quella del Parlamento che è il centro e il cuore della democrazia e che ha in se stesso, nella sua stessa ragione d'essere un principio che è quello della pubblicità degli atti parlamentari e del lavoro parlamentare. Quindi l'attività del Parlamento oserei dire non è solamente lo svolgimento di una serie di funzioni che studiamo tutti nello studio del diritto costituzionale legislativa, sindacato ispettivo, attività di inchiesta ma ha anche un dovere che è quello di rendere pubblica questa attività di fare in modo che chiunque dal semplice cittadino a chi è addetto ai lavori possa conoscere in maniera immediata e chiara quelle che sono le attività interne. Quindi direi che questa attività di comunicazione fatta dal Parlamento assume un valore ulteriormente importante perché il Parlamento è fonte primaria quindi quando parla della propria attività parla come fonte primaria quindi deve dare l'informazione immediata corretta, completa e il più possibile tempestiva ma ovviamente ufficiale quindi spesso nel rispondere a queste esigenze si scontra con quella che è la natura stessa del Parlamento e la sua attività di lavorare e di raggiungere le sue decisioni perché è un organo complesso in cui le decisioni avvengono con procedure complesse e in cui le forze politiche diverse confluiscono per una decisione talvolta anche il semplice dato detto prima o detto dopo può avere una valenza politica quindi non è così semplice distinguere ecco io questo lo vorrei dire non è così semplice neanche in Parlamento dire cos'è comunicazione istituzionale e cos'è invece una comunicazione politica detto questo l'attività informativa del Parlamento si compone e si dice bene la dottoressa Trovellesi nel libro si dirama in varie forme di informazione la prima, la più tradizionale l'informazione documentale che ha visto il Parlamento sempre impegnato e che ovviamente ha avuto un grosso sviluppo negli anni e soprattutto negli ultimi decenni non è necessario ricordare cosa succedeva nelle primissime legislature repubblicane quando l'unica forma di pubblicità era un resoconto stampato con i tempi che erano necessari distribuito solo su carta e ovviamente a chi girava nel palazzo perché la realtà non poteva permettere altre forme basta comunque anche tornare indietro di 30 anni e dico 30 anni perché me lo ricordo io quando sono entrata in Senato giovanissima per ricordare che vi era un resoconto sommario delle sedute dell'Assemblea che veniva pubblicato il giorno successivo alla seduta un resoconto stenografico che si vedeva dopo qualche mese e i dati dell'attività parlamentare venivano gestiti su schedari cartacei schedine cartacei per cui il reperimento del dato era un reperimento lungo, complesso e di difficile accesso per tutti è chiaro che lo sviluppo tecnologico e informatico ha favorito enormemente l'informazione documentale che il Parlamento ha riuscito a mettere a disposizione di tutti basti pensare negli anni 90 alle banche dati specialistiche con l'informatizzazione di tutti i dati con il 2000 i siti internet e la rete è chiaro che questi dati sono aumentati notevolmente anche la fruibilità dei dati stessi è aumentata ai dati si sono aggiunti i testi insomma dico cose che noi tutti conosciamo ma insomma il patrimonio documentale l'accessibilità a questo patrimonio documentale è oggi enormemente accresciuta e io sono convinta che lo sforzo dell'istituzione in questo è stato notevole è stato molto forte e lo è stato non solo perché ha utilizzato strumenti nuovi e strumenti che via via sono stati resi disponibili ma anche perché ha modificato la propria attività interna per fare in modo che quegli strumenti potessero dare una maggior fruibilità e maggior risultato possibile per tutti e qui vorrei citare il caso ad esempio sempre del resoconto stenografico di assemblea le procedure interne di lavoro sono cambiate con l'informatizzazione e ciò ha consentito non solo di avere un testo disponibile online ma di averlo anche in corso di seduta perché tutto il processo lavorativo è stato adattato alle nuove procedure così come si è anche verificato delle modifiche anche normative e non solo normative ma anche di interpretazione i testi dei disegni di legge che la norma interna del regolamento prevede debbano essere stampati e distribuiti in realtà oggi sono stampati su file quindi si è passate ad un'interpretazione che consente una maggior fruibilità grazie anche a una modifica della lavorazione interna che consente di avere il file immediatamente disponibile quindi uno sforzo enorme dal mio punto di vista dell'istituzione per dare questa informazione documentare sempre più ampia, sempre più tempestiva utilizzando poi gli altri strumenti dagli strumenti audio-video, canale satellitare, web tv a cui tutti possono accedere a un certo punto la stessa istituzione però si è resa conto che questo non bastava e non bastava perché in realtà nessuno percepiva l'esistenza e come si potessero utilizzare questi strumenti e quindi si doveva procedere anche ad affiancare questa intensa attività di informazione documentale con qualcosa di più cioè con una interazione diretta con il cittadino e qui è venuto il primo problema cioè il Parlamento che comunica che interagisce con i cittadini con gli addetti ai lavori con l'informazione che tipo di comunicazione deve fare cosa deve comunicare qual è il suo obiettivo e da questo punto di vista l'obiettivo era ben chiaro cioè l'istituzione deve comunicare come funziona deve cioè avere un ruolo educativo perché deve far conoscere a tutti come poter entrare nel palazzo e conoscere quello che succede nel palazzo e quindi si è avviato questa attività di comunicazione educativa che è stata fatta ad ampio raggio con aperture dei palazzi non solo alle visite artistiche del palazzo ma anche con contatti diretti con luoghi aperti al pubblico che consentivano l'interazione dalle biblioteche, gli archivi storici anche la libreria multimediale il centro di informazione del senato è un luogo qui in via della Maddalena aperto al cittadino con la presenza sul territorio in cui l'istituzione spiegava il proprio funzionamento e gli strumenti per conoscerla e poi lasciatemi l'uso di social network ad esempio a cui l'istituzione si è affacciata per amplificare la propria informazione e infine lasciatemi anche segnalare tutta l'attività ormai sistematizzata con i giovani, con il mondo delle scuole con il mondo dell'università in cui sia la Camera che il Senato insieme o disgiunte e con il MIUR svolgono ormai sistematicamente proprio per questo obiettivo di dare una comunicazione che fosse di tipo educativa cioè io ho anche non solo il compito di rendere fruibili le informazioni ma anche il compito di far conoscere come questi strumenti che sono a disposizione basta questo? è sufficiente questo? questa è una bella domanda che allora io mi vorrei togliere adesso lo sfizio se mi consentite visto che sono qui per una volta di fare una domanda a un giornalista e quindi di ripassare la palla al dottor Amici e dirgli dopo tutto questo sforzo che le istituzioni hanno fatto è sufficiente questo? Diciamo che dalle parole della dottoressa Cardarelli viene proprio una sfida per noi giornalisti nel senso che appunto lei ha parlato di questo patrimonio documentale al quale si può accedere che è veramente notevole penso solo ai dossier che vengono predisposti dai vari uffici studi e che accompagnano spesso i progetti di legge e che molte volte appunto aiutano a spiegare quelli che sono i provvedimenti via via in discussione devo dire che appunto dalla dottoressa Cardarelli viene una sfida perché troppo spesso poi il giornalismo parlamentare si riduce appunto al gossip per cui al costo del panino alla buette oppure a quanti sono i barbieri a quante ore lavorano e certo questo non aiuta a combattere quel pericoloso antiparlamentarismo e quella pericolosa antipolitica con i quali oggi occorre fare i conti certo naturalmente chi rappresenta le istituzioni ha la prima responsabilità di salvaguardarne la dignità e il corretto funzionamento però anche i giornalisti se si attardassero di più a parlare effettivamente di cosa si discute in Parlamento probabilmente darebbero un buon contributo alla causa del miglioramento della nostra democrazia l'altro aspetto da mettere in rilievo è comunque l'insostituibile funzione di mediazione che il giornalista continua e deve continuare a svolgere logicamente la web tv ti permette di assistere a una seduta di commissione la seduta di aula le istituzioni oggi usano twitter usano facebook però indubbiamente il giornalista ha una funzione continua ad avere una funzione di mediazione insostituibile e qui vorrei ancora una volta citare le parole di Stefano Folli non c'è alternativa le istituzioni difenderanno se stesse solo se sapranno appoggiarsi con coraggio e lungimiranza al filtro attivo del giornalismo e quest'ultimo avrà un futuro se non rinuncerà a interpretare la realtà mantenendo vivo il contatto fra i capisaldi della democrazia rappresentativa e il sentimento pubblico nelle sue complesse articolazioni senza paure di esercitare una forma sottile di pedagogia civile quindi l'importanza di questa funzione di mediazione che serve appunto anche a spiegare talvolta a spiegare a essere da stimolo intelligente rispetto a quello che avviene nelle aule parlamentari perché se ad esempio un'immagine restituisce un'aula del Parlamento vuota un giro non è che deve limitarsi a dire l'aula è vuota i deputati o i senatori non fanno nulla deve spiegare perché l'aula è vuota e magari sottolineare come probabilmente quell'aula è vuota perché certe procedure che pur vanno salvaguardate probabilmente vanno rese di più al passo coi tempi pensiamo all'importanza del sindacato ispettivo però anche alla necessità di renderlo più moderno rispetto a quelle che sono le esigenze della nostra società che non è naturalmente quella del 1948 o quella degli anni 60 la dottoressa quindi molto sicuramente si è fatto i giornalisti dovrebbero essere diciamo più attenti a cogliere quanto materiale c'è nel Parlamento e quanto può aiutare a spiegare bene il Parlamento ed avvicinare il Parlamento ai cittadini però sicuramente strada da fare ancora ancora ce n'è perché si oggi i resoconti parlamentari sono diventati sicuramente più rapidi però io racconto proprio per esperienza diretta un episodio che mi è capitato recentemente nei giorni scorsi si era scatenata la polemica sull'invio dei soldati in Lettonia e praticamente alcuni deputati hanno sottolineato che comunque il governo già a luglio in sede di commissioni parlamentari riunite aveva reso noto che ci sarebbe stata questa missione ebbene siamo a ottobre io ho cercato di andare a ritrovare il resoconto stenografico di quella seduta svoltasi a luglio e ancora il resoconto stenografico non era disponibile ora quel giorno logicamente c'era la trasmissione della web tv e quindi la seduta uno ha potuto seguirla in diretta però magari poi a distanza di due mesi può servirti andarti a rivedere il resoconto e ancora non c'era questo naturalmente non è non dipende dalla cattiva volontà di chi lavora in Parlamento dipende da regolamenti che ancora magari sono fermi a decenni non ad anni a decenni indietro e che quindi andrebbero ammodernati quindi in questo senso sicuramente c'è parecchia strada da fare e sia i giornalisti che raccontano il Parlamento sia i giornalisti che lavorano in Parlamento possono essere uno stimolo per aiutare in questi necessari necessari miglioramenti quindi perché indubbiamente è importante avere all'interno del Parlamento all'interno degli uffici stampa dei giornalisti che svolgono anche una funzione di mediazione per comunicare per informare sull'attività parlamentare e possono anche svolgere questa funzione di mediazione anche nei confronti dell'istituzione parlamentare per cercare non solo di renderla più moderna dotandola delle tecnologie dei social network che tutti conosciamo e utilizziamo ma anche rendendola partecipe di quelle che possono essere le esigenze per renderla più moderna e quindi più legata anche all'opinione pubblica perché penso che anche così facendo si riuscirà a far sì che dall'opinione pubblica salga più che una risposta di antipolitica una domanda una domanda di politica io non so se ho soddisfatto la curiosità della dottoressa Cardarelli e se lei può magari visto dal lato della sua esperienza indicarci se effettivamente queste problematiche sono reali e come la strada che ancora si può fare per venire incontro a queste necessità sono assolutamente d'accordo così come mi fa piacere vedere che i resoconti stenografici sono ancora molto importanti visto che qualche volta si parla di eliminarli visto che ci sono le dirette sulla web tv sono d'accordo anche su questo importante ruolo che svolge l'ufficio stampa e i giornalisti all'interno degli uffici stampa l'ufficio stampa è un ufficio che in una struttura di un'istituzione come è il Parlamento ha una posizione un po' particolare intanto è inserito nella struttura amministrativa alle dirette dipendenze del segretario generale ma svolge un'attività a differenza di tutti gli altri uffici che è rivolta verso l'esterno quindi ha il compito di portare all'esterno l'istituzione nello stesso tempo afferisce ad una istituzione che è complessa quindi ha molti luoghi decisionali ha molti organi al suo interno che sono da comunicare e ognuno di questi organi compone una decisione che è complessa a sua volta come può al meglio svolgere questa funzione può al meglio svolgere questa funzione se ha le competenze per essere radicato nella struttura amministrativa quindi se conosce la struttura amministrativa se ne conosce le procedure si è percepito dalla struttura amministrativa come parte di se stessa e ne esprime la fiducia nei confronti dell'ufficio stampa e nello stesso tempo si ha le competenze specifiche per parlare all'esterno e per conoscere il mondo dell'informazione parlare e tradurre in termini chiari quelle che sono la materia complessa dell'attività parlamentare quindi la professionalità giornalistica è assolutamente indispensabile è mio per un'istituzione secondo me che vuole fare a meno della professionalità del giornalista in un ufficio stampa detto questo quando io parlo di professionalità del giornalista intendo non un'unità di personale in più all'interno di un ufficio stampa voglio essere molto chiara ma sfruttare la sua professionalità che è fatta di conoscenze di competenze ma è anche fatta di regole deontologiche proprie di quella professione che non si scontrano e non sono contrapposte a quella di una struttura amministrativa perché lo scopo della comunicazione istituzionale e questo è quello che fa il giornalista all'interno di un ufficio stampa è il solito è comune cioè quello di comunicare l'istituzione di dare il dato ma non la lettura politica del dato solo in questo modo secondo me gli uffici stampa possono svolgere un ruolo importante per l'istituzione per i cittadini e svolgere anche questa funzione di portare all'interno le istanze nuove che un mondo dell'informazione che ormai va a 3.000 10.000 non si capisce più e quindi aumentano di ora in ora che richiedono anche riflessioni richiedono modifiche magari di prassi consolidate oppure addirittura modifiche di norme esistenti nei regolamenti cosa che è anche successa perché alcune cose sono state fatte anche sulla base di segnalazioni di riflessioni comuni perché i giornalisti dell'ufficio stampa segnalavano alcune esigenze mi riferisco ad esempio non so le dirette delle sedute di commissioni quando sono pubbliche oggi vanno tutte in diretta le sedute anche se avvengono in contemporanea prima non era possibile quindi questo ruolo di collaborazione di professionalità diverse è fondamentale e ripeto è falso chi pensa che ci possa essere una contrapposizione assolutamente di intenti lo scopo della comunicazione è unico ed è la trasparenza è giusto e condivido appieno l'affermazione del dottor Folli che scrive nella prefazione sono contenta di averla trovata che cioè le istituzioni trasparenti acquistano credibilità acquistano autorevolezza il Parlamento non vende prodotti e quindi non fa marketing il Parlamento non deve neanche fare propaganda sulla propria immagine ma se è trasparente acquisisce autorevolezza e anche la sua immagine ne dovrebbe avere un beneficio bene bene a questo punto penso che Laura deve essere un po' chiamata a tirare le fila dunque io volevo dire pochissime cose innanzitutto grazie no è accetto è accetto eh? si è accetto innanzitutto grazie ai relatori per le cose che hanno detto straordinarie e rispetto al libro volevo dire che questo libro è il frutto di una lunga e complessa esperienza professionale vissuta nelle istituzioni su con diversi ruoli prima da cronista parlamentare e poi all'interno dell'ufficio stampa di uno dei due rami del Parlamento è stato un viaggio un viaggio lungo quasi vent'anni è stato un viaggio lungo quasi vent'anni un viaggio nel corso del quale mi è stato possibile fare molte cose raccontare assistere agire interagire dal di fuori e dall'interno dei processi politici decisionali e processi decisionali parlamentari e in qualche modo essere nella prima fase e nella seconda lo strumento della loro mediatizzazione una possibilità che solo una professione straordinaria come quella del giornalista può consentire e questo libro in effetti vuole essere un contributo alla professione del giornalista in fondo anche se è firmato da un solo autore firmato da me questo è un libro corale vorrei ringraziare l'editore per aver scelto di pubblicare questo libro che tenta di esplorare un territorio di confine dove si intersecano e interagiscono mondi differenti la politica la burocrazia e il giornalismo orti conclusi con paradigmi e linguaggi differenti ma nelle istituzioni però costretti alla convivenza voglio ringraziare anche l'editore per aver scelto di inserire la fabbrica della democrazia nelle giornate del libro politico anche se questo non è un libro politico ma è un libro che interroga la politica quando si fa classe dirigente protempore e incarna in questa veste le istituzioni e quando la politica decide legiferando in materia di informazione in una fase soprattutto come questa dove la rivoluzione digitale ha innescato una trasformazione epocale che restituisce a noi giornalisti un tumultuoso tempo presente vorrei ringraziare Yolanda Cardarelli che da consigliere parlamentare in questa circostanza diciamo l'espressione di uno dei mondi cioè l'espressione del mondo della burocrazia con il quale il giornalista che lavora nelle istituzioni è costretto ad interfacciarsi continuamente e a volte come lei ricordava anche con una dialettica piuttosto serrata però lo sforzo è continuo per tutti per entrambi ma se gli obiettivi sono condivisi diciamo che è anche possibile intendersi vero Yolanda? certamente vorrei ringraziare anche il collega Sergio Amici che è il presidente dell'associazione della stampa parlamentare con cui con il quale in questi anni non sono mancati momenti di numerosi scambi spero proficui conferma conferma e con lui e con lui vorrei ringraziare tutti veramente proprio tutti i colleghi giornalisti in fondo questo libro è anche loro perché se durante i miei lunghi anni di lavoro al senato non si fossero verificate le più varie situazioni non sarebbe stato possibile per me tentare una sistematizzazione di come funziona e forse come dovrebbe funzionare l'informazione e la comunicazione istituzionale un ringraziamento particolarmente sentito va al direttore Folli che è stato più volte citato e la sua è stata una prefazione efficace ma soprattutto per me che è un Folli maestro di giornalismo è stato un dono prezioso partendo dalla fondamentale distinzione tra comunicazione e informazione più volte qui richiamata lo sforzo che ho tentato di fare è stato quello di accendere una luce sulla delicatissima funzione che investe il giornalista che lavora nelle istituzioni è una professione per certi versi ancora poco nota in più ma è importantissima non so se ci sono riuscita ma se potete apprezzate lo sforzo grazie e naturalmente leggete il libro la fabbrica della democrazia comuni comunicari il parlamento si legge benissimo grazie a tutti grazie 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 di Tutto Scuola. Devo dire che io ho accolto con particolare piacere l'invito del professor Antonio Augenti a partecipare, a moderare la presentazione di questo volume, perché come rappresentante responsabile di Tutto Scuola, per noi Antonio Augenti è veramente una colonna portante, cura una rubrica sulla rivista da più di vent'anni che è diventata un appuntamento mensile particolarmente atteso dai lettori. Una rubrica che anche per collocazione, perché è pubblicata nell'ultima pagina della rivista, e anche per l'obiettivo di stimolo alla riflessione che si pone, un po' richiama quella rubrica che molti di voi avranno seguito per anni sull'Espresso, la bustina di Minerva di Umberto Eco. Ecco, si può dire che Antonio Augenti è l'eco di Tutto Scuola e in questo libro risuona anche la eco al femminile della nostra rivista, perché il libro raccoglie in maniera strutturata, gli interventi che il professor Augenti ha curato negli ultimi anni per questa rubrica. Io ricordo quando più di vent'anni fa chiedemmo di curarla e insieme scegliamo il nome della rubrica che per anni è stato Europa chiama scuola e poi negli ultimi anni abbiamo poi ridenominato in La scuola racconta l'Europa. Il libro, oltre a raccogliere in maniera intelligente, presenta un'introduzione molto ricca nella quale Augenti sviluppa da par suo quattro concetti chiave che sono un po' gli assi portanti per l'Europa e quindi che sono quelli della identità, della memoria, del progetto, che è un po' anche la visione del futuro e della sfida. Una sfida che si può vincere se in particolare il grande patrimonio storico, culturale e anche valoriale dell'Europa potrà e dovrà essere insegnato e quindi imparato dai giovani di questo secolo. Io adesso darò subito la parola ai relatori che sono intervenuti e quindi abbiamo il professor Francesco Gui, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma e il professor Rocco Pezzimenti, docente di filosofia della politica presso la Lums di Roma. Darei subito la parola proprio al professor Gui. Prego. Vi ringrazio, sono molto onorato di questo invito e ecco sono anche intimorito dalla presenza di un filosofo perché magari ecco gli aspetti più filosofici mi sono forse meno come dire familiari, però ecco trovo in questo volume, questo libro, questo contributo ecco un'identità tradita dell'Europa da una parte una preoccupazione e nello stesso tempo ovviamente uno stimolo anche a una proiezione operativa insomma a seguito di queste riflessioni. E proprio per questo mi sembra molto corretto aver ricordato questa triade, la memoria, il progetto e poi la cultura. Mi sembrano che questi, come dire, ordinamento di constatazioni e inviti all'azione mi pare che sia il contenuto e il, come dire, lo stimolo più importante che credo che possa provenire da questo libro. Ecco sicuramente a me non pare che oggi siamo in una fase culturale in cui la memoria sia molto coltivata. Agirandosi per Roma, per esempio, così se voglio essere un po' concreto, non percepisco nel cittadino romano la volontà di valorizzare quello che è stata questa città, come si può proporre al resto del mondo. C'è un po' una dissociazione culturale, insomma, scherzosamente, insomma, dico sempre che vedo queste scritte in California, Ohio, anche nei miei studenti, come se la grande aspirazione fosse di vivere in un'altra realtà. Mentre credo che senza esagerare, senza assolutizzare cosa sia l'Europa, poi magari su questo vorrei aggiungere una considerazione che ci lega un po' anche a quelli che stanno dall'altra parte dell'Atlantico, tuttavia credo che il contributo importante dell'Europa sia proprio quella di non dimenticare quello che è stato e anche gli apporti che può portare ai processi non soltanto continentali ma mondiali. Ecco, quindi credo che non è solo un problema di ricordo, è anche un problema di costruire le ragioni sulle quali basarsi per andare avanti. Faccio solo un esempio perché vorrei essere un po' concreto. Insomma, nei nostri manuali di storia, per esempio, non si ricorda che 150 anni fa, l'anno prossimo, si tenne un congresso a Ginevra per la pace e gli Stati Uniti d'Europa, a cui venne invitato Giuseppe Garibaldi. Quindi il nostro risorgimento, la nostra storia di fatto è molto di attualità, perché certo ci sono state due guerre mondiali in mezzo, però tutto sommato quel messaggio era forse più duraturo di quello nazionalistico e immediato che ha prevalso, diciamo, temporaneamente. Aggiungiamo anche che Garibaldi poi a metà fece qualche attacco un po' duro al papato, diciamo che questo era un po' il suo vizio, poi disse scusate, devo andare a Mentana dove, insomma, le cose andarono in un certo modo. Ecco, quindi non idealizziamo nemmeno troppe le cose, però nella nostra piccola, diciamo, contributo che vogliamo dare, sto cercando di vedere se l'anno prossimo si possa ricordare che c'è stato un congresso in cui anche il risorgimento italiano ha dato un contributo importante, quindi la nostra stessa identità, che poi in questo senso portava dietro la tradizione universalistica cristiana, insomma, senza ombra di dubbio, e che appunto in un contesto europeo tutti coloro che volevano una coesistenza pacifica fondata su questi valori si riunirono e diciamo anche forse il mercato unico europeo, magari a merito anche di Richard Cobden, che era presente nella circostanza, o Victor Hugo, che disse un giorno viendrà, eccetera, eccetera, e insomma il contributo italiano non è stato trascurabile, però purtroppo viene un pochettino dimenticato. Ecco, quindi, faccio solo un esempio, e naturalmente qui di memoria si può riparlare tantissimo, però ringrazio molto di aver ricordato, e nello stesso tempo appunto di non fermarsi alla memoria, ma vedere in forma progettuale, ecco, e questo mi sembra un altro punto su cui siamo un pochino carenti, a mio avviso, sia sul piano della formazione, su quale magari vorrei tornare dopo, ma anche proprio su progettare che cosa stiamo costruendo. abbiamo fatto una piccola rete universitaria che si chiama Università per l'Europa verso l'Unione Politica, perché si immagini almeno come potrebbe essere questo assetto che andiamo costruendo, su quali valori, quali ruoli potrebbe avere, perché se ci pensate è importante appunto essere entrati un po' nel merito, eccetera, si dice o usciamo dall'Europa, vabbè, una frase che resta lì, oppure facciamo la federazione, sì, ma come, con quali principi di base, con quali modelli, eccetera, e questo può passare solo attraverso la formazione, l'educazione, il ruolo delle università, cioè coinvolgere tutti i settori nell'edificazione un certo nuovo risorgimento, cioè nel senso stiamo edificando un assetto politico-istituzionale sovranazionale. Dovremmo un po' sapere come vagamente lo prospettiamo. E per far questo non può che passarsi attraverso la formazione e la cultura. Da questo punto di vista vorrei anche aggiungere appunto che la memoria e nello stesso tempo la progettualità ci dovrebbero portare anche a riflettere su cosa intendiamo per identità europea. Abbiamo in mente l'Europe puissance, come dice qualcuno, cioè un soggetto tipo post pace di Westfalia, cioè un'Europa che tratta con Cina, Russia, America e fa una politica nazionalistica europea. Oppure è un soggetto che deve proporsi come un fattore di pace a livello internazionale, quindi fin dall'inizio fondato su questo valore, su questa identità. Ecco, io credo che sia questo il compito prioritario dell'Europa, di poter dimostrare al resto del mondo che è possibile superare delle forme di isolazionismo nazionalistico, se non di rivalità, eccetera, eccetera, che hanno condizionato la storia del mondo. E allora, se è così, mi sembra che sia un po' povero quando si parla di Europa, parlare solo di sviluppo, di litigi di tipo economico, eccetera, eccetera. Dovremmo pure condividere questo progetto di carattere generale. E questo progetto che vuole essere un passo avanti, scusatemi se posso dire questa cosa un po' enfatica, un passo avanti nella storia dell'umanità. Insomma, questa sarebbe una delle motivazioni importanti e di fatti vedo richiamati nel libro anche fattori, per esempio mi è piaciuta la citazione di Legoff, in cui appunto si parla di Europa come non esagerare nell'introversione europea, ma un modello capace di rispettare l'altro, di garantire l'osservanza del diritto e gli studi della democrazia, perché certe cose sono state accumulate e possono essere di interesse generale. Insomma, e questo credo che sarebbe, insomma, un po' anche, esagero un po', insomma, una certa spiritualizzazione del progetto europeo. Io la condividerei e appunto vedo qui che non solo spiritualizzazione, ma anche, per esempio, questi obiettivi della ricerca, ecco, per esempio, non è che si pensa molto, si parla molto di insieme potremmo fare dei grandi progetti di sviluppo, di ricerca che andrebbero nell'interesse di tutti gli uomini. Queste cose sono assolutamente trascurate, ma soltanto se abbiamo dei valori un po' forti, credo che possiamo essere in grado di proporli. Ecco, e da questo punto di vista, essendo annoverandomi io fra i federalisti, sia pure spinelliani, ma non proprio ortodossi, nel senso che, come magari è stato detto recentemente a Ventoteni, qui è nata la costruzione europea, no, è nata anche un po' prima, e è nata anche con concorsi culturali più ampi, insomma. Ecco, da questo punto di vista siamo molto legati a una cultura che passa anche attraverso quei signori che hanno fatto Brexit e poi anche quelli che andavano dall'altra parte dell'Atlantico per realizzare quel mondo che in Europa non si riusciva a realizzare. Ecco, credo che anche di questo dovremmo essere consapevoli. Dovremmo costruire una cosa, ecco, che non rinneghi questa memoria che poi sono dei fatti oggettivi, insomma, cioè che sia consapevole che oltretutto questa cultura, questa volontà di superare la sovranità assoluta dello Stato ha una radice e una forza e anche una universalità più ampia di quella che le si attribuisce di solito. Qui viene citato appunto gli Stati Uniti d'Europa, ecco, però gli Stati Uniti d'Europa non sono l'Europe puissance, sono quello strumento che consente di esportare ulteriormente un'idea di unificazione, di superamento dei conflitti, perché questo è il fondamento culturale del federalismo, della creazione degli Stati Uniti d'Europa. Adesso non mi vorrei allungare molto da questo punto di vista, però, ecco, magari aggiungerei che ogni tanto anche a riferimento a quell'inglese sia pure un po' quacchero, diciamo, che ha dato il nome uno Stato americano che era inglese, che è stato il primo a fare il primo progetto di istituzione, assetto istituzionale e culturale dell'Europa, quel tale William Penn, insomma, andrebbe ricordato anche fra i nostri fondamenti culturali e anche questo in qualche modo rivalutato appunto nell'attività educativa e culturale. Questo per dire appunto che credo che sia giusto che questa Europa, la pensiamo soprattutto sul piano della cultura, di questi fondamenti che possano unire e non sugli aspetti così tecnici con la quale spesso viene affrontata. Per questo mi pare che il contributo appunto sia importante, questo fattore dell'identità, riflettere su questa identità, quale progetto realizzare con questa identità e ci sono vari aspetti che potrebbero essere qui citati e che ritengo importanti. Diciamo, non vorrei essere troppo prolisso, ma sicuramente l'altro aspetto della cultura mi sembra anche questo un aspetto centrale, che anche in questo caso viene alquanto sottovalutato. Anche da questo punto di vista ci stiamo un pochettino agitando, diciamo, alla sapienza, perché io per esempio appartengo al Dipartimento di Storia, ho detto faccio un corto di storia e integrazione europea gratis, in più, purché coloro che vanno a insegnare nelle scuole distinguono fra commissione, consiglio. Io sono detto no perché sennò i colleghi perdono un po' di studenti, eccetera. Cioè, capite? Purtroppo non abbiamo ancora la consapevolezza che nemmeno a questo livello si dia il minimo di conoscenze per quella cittadinanza che viene citata in questo libro. La cittadinanza europea esiste, siamo tutti cittadini elettori del Parlamento europeo, però non siamo in grado nemmeno di spiegare l'ABC ai docenti che poi parlano nelle scuole. E se mi permettete, talvolta anche in giornali molto prestigiosi riscontriamo che c'è qualche incertezza nell'identificare il soggetto di cui stiamo parlando. Il che forse vuol dire, ma tanto anche non se ne accorge nessuno, insomma, cosa vuoi che dica? Ecco, direi che tutte queste cose non fanno il bene del nostro Paese. Ho l'impressione, sì, che un atteggiamento un po' vivace possa funzionare nei rapporti, però soprattutto sarebbe bene presentarsi con una solidità organizzativa, culturale, un progetto appunto per poter veramente esercitare un ruolo da Paese fondatore, ben o male, dell'Unione. Tra l'altro sapete che i 60 anni si ricordano fra non molto tempo e ci saranno anche molte iniziative, anche a Roma, anche i federalisti stanno organizzando anche delle manifestazioni un po' più ampie, eccetera. Ecco, purché non siano solo celebrative, forse sarebbe proprio l'occasione sulla base dell'invito che viene fatto qui, e anche sulla qualità della docenza universitaria stessa che viene, perché spesso questa cultura viene data in maniera molto generica, cioè si sta un pochino abbassando, se consentite anche un po' la qualità dell'insegnamento, perché spesso non si è nemmeno molto chiari a che cosa servono le istituzioni culturali, per quel che vedo nella mia esperienza, diciamo, i docenti. Ecco, quindi ragione in più per riflettere, io credo con molta attenzione su quello, il problema universitario fra uguaglianza e qualità, mi sembra, non è nuovo, ma estremamente importante, soprattutto in questa fase, e lei poi ha tutta la, sia conoscenza personale, esperienza personale, che la dedizione culturale, se tra l'altro mi posso permettere, ci sono citati tantissimi autori qua dentro, e devo dire complimenti per quanti ne conosce, ecco, se mi posso permettere. Ecco, forse non è il caso che mi dilunghi tanto, però memoria, progetto e educazione mi sembrano assolutamente fondamentali e la ringrazio per avermi dato questa occasione. Grazie, professore. D'altro, ecco, volevo anche rivolgere in coda una domanda a lei, perché da studioso di storia, lei ha parlato oggi di fondamenti che possano unire, di cultura, di qualità dell'insegnamento. Ecco, secondo lei, visto che qui ci sono anche molti uomini e donne di scuola proprio, quindi credo possano essere interessati, è pensabile una storia dell'Europa scritta e condivisa a livello comunitario e studiata da tutti i giovani europei delle prossime generazioni? In genere, se è un'uniformità un po' eccessiva o se è un po' una verità ufficiale, magari non sarei d'accordissimo, però che, diciamo, si inviti un po' a essere consapevoli, ho fatto quel riferimento a questa storia un po' antica, ecco, che però può dare la consapevolezza che quando parliamo appunto un'identità europea, ecco, questo universalismo dell'identità europea sulla base della memoria e dell'esperienza storica, di conoscere un po' i fatti, credo che sia importante, ci può anche far capire che non stiamo sognando o di ritornare allo Stato nazionale, appunto, oppure fare la più grande potenza del mondo. Stiamo contribuendo in collaborazione con coloro che per certi aspetti hanno esperienze uguali alla nostra per esercitare un ruolo positivo su tutto il mondo, se possibile, tramite la cultura, la scienza, poi non è che dobbiamo parlare solo del buonismo, però, diciamo, con un impegno forte e oltretutto, a mio avviso, anche motivante, perché oggi un giovane, voglio dire, credo che poter raggiungere obiettivi culturali e scientifici importanti che siano di interesse generale, forse possono essere cose più motivanti, perché altrimenti, sapete che un ristorante, un bar recentemente aperto si chiama Let It Be, non più Let It Be, cioè questo consumismo quotidiano, eccetera, che mi sembra veramente, lo dico perché stanno in università, ogni tanto mi capita di cogliere questi aspetti della vita quotidiana. Comunque, certo, un impegno a diffusione di queste conoscenze mi sembra essenziale. Grazie, professore, diciamo che è con particolare deferenza che adesso passo la parola al professor Rocco Pezzimenti, perché non solo è un stimato, apprezzato, studioso di filosofia della politica, ma anche, e svelo qui un retroscena, il mio professore di storia e filosofia al liceo, 30 anni fa, ecco, posso dire che mentre io ero un adolescente senza capelli bianchi e tutto, il professor Pezzimenti è praticamente identico. e devo dire che, insomma, diciamo è stata anche, posso dire, la figura un po' tra i nostri insegnanti, quella più vicina al modello dell'insegnante interpretato dal grande attore americano, esatto, che insegnava anche il carpe diem ai propri studenti. Tra l'altro, le devo dire che poi prima di andare via, ci dobbiamo fare un selfie che devo mandare alla chat dei compagni di scuola, perché abbiamo fatto il trentennale recentemente, quindi quando hanno saputo che ci siamo in contatto, mi hanno assolutamente ordinato di fare questa cosa, quindi, allora, quindi va bene, nella speranza di non rimediare un brutto voto oggi dopo trent'anni, le passo la parola. Dopo questa presentazione me ne posso anche andare, non mi posso dire, ma lui dice ai capelli bianchi cosa dovrei dire io, comunque, devo dire sinceramente una cosa, quando si legge un libro, si accrescono le conoscenze, si è un buon libro, come in questo caso, ma in questo caso devo anche aggiungere una cosa, l'autore ti siede accanto, la lettura di un libro è anche una conoscenza di chi lo ha scritto, indiscutibilmente. Non ci conosciamo da molto tempo, ma queste immagini mi hanno dato modo veramente di approfondire quasi un trascorso, direi così. E il complimento primo che posso fare a questo libro, ve lo dico sinceramente, ed è un invito poi alla vostra lettura, ovviamente, è che io leggendolo il più delle volte mi sono confuso se quello che leggevo l'avessi scritto lui o l'avessi pensato io. Questo dimostra una, che posso dire, una sintonia di idee che veramente mi capita rarissimamente, credo a tutti noi capiti, rarissimamente quando si legge un libro. Dunque, il merito principale di questo libro, oltre a quello che ho detto, è che secondo me è un libro ottimista, scusatemi se è poco con i tempi che corriamo, no? Perché uno legge Europa, un'identità tradita, dice adesso qui ci mettiamo nelle solite lamentazioni, e invece no. Questo è un libro che dà stimoli soprattutto ai giovani e quindi invito loro in modo particolare a leggerlo. Come è stato già detto, attraversa quattro concetti fondamentali questo libro, identità, memoria, progetto e sfida. Sono quattro concetti che sono estremamente connessi, proprio legati, iperlegati. Quasi in un crescendo potremmo dire rossiniano, uno li legge e si trova preso a partecipare a questa realtà. Il primo, l'identità. Ecco, si parla tanto di identità, qui è chiarito quello che si intende per identità e dovremmo rifletterci un momento, perché non è uno sguardo solo rivolto al passato, ci invita a confrontarci con un nuovo modello di identità, quello che come cittadini europei dovremmo avere di fronte. Ovviamente non è un modello che si costruisce sul vuoto e quindi qui è il recuperare questo concetto delle singole nostre identità, singole anche come popoli. L'identità non può essere fissata una volta per tutta, è un processo dinamico, è proprio quasi un ordine dinamico, vorrei dire. Cresce e matura, come tanti concetti anche politici, come la sovranità, la partecipazione e quant'altro. E questa identità ci fa scoprire, mi sembra giustissimo questo concetto, le diversità in un fenomeno di arricchimento. Che incontriamo, non solo nella nostra realtà culturale, ma anche nelle altre culture europee, può essere un senso di arricchimento, è una ricchezza l'altro. E questo ci pone anche nella prospettiva, come è stato accennato poc'anzi, che la storia che riguarda il passato può essere anche riscritta per essere una storia condivisa. Sicuramente cosa non facile. L'autore a un certo punto fa una riflessione sul nome che fu dato a questa Europa all'inizio, comunità. È un concetto che ha le sue radici, ci ricorda intorno al 1400, anche un pochino prima, ma quasi a ricordarci che questo concetto di comunità non è solo un concetto che può essere politico e giuridico, è qualcosa di più. Ed è per questo che è un concetto che va riscoperto soprattutto nell'ambito della scuola e della cultura, per aiutare i giovani a crescere. Questo mi sembra il motivo di fondo poi dell'intero scritto. La seconda parte è la memoria. Dopo quello che ho detto, la memoria non è un rivolgersi ovviamente solo all'indietro, è sì un riconoscere una propria identità, ma quasi riprendendo quello stimolo del grande romanzo di Pirandello, I vecchi e i giovani, ce lo dice chiaramente l'autore, è un rapporto che stimola chi ha i capelli bianchi e chi li ha nerissimi ancora, appunto i vecchi e i giovani, perché la memoria è tale non se si chiude al riccio, ma se si fa progetto, se vuole andare oltre. Ecco, si ha l'impressione a volte in questo nostro mondo che si vive senza storia, illudendosi che vivere senza storia sia più facile per pensare al futuro. Non è così. Memoria, futuro e progetto sono tutti e tre concetti profondamente legati l'uno all'altro. Per questo si dice un'altra cosa importantissima, secondo me, che i sistemi educativi non possono puntare tutto sull'odierno, anche se questo è fondamentale, come la tecnica, la tecnologia, eccetera, però la ricchezza della cultura è anche qualcosa di più. Dice giustamente che questo bisogno avvertito un po' da tutti, ci sono delle pagine molto simpatiche, tra l'altro, quelle dedicate ai giorni dei ricordi, il ricordo delle persecuzioni, ma devo dire che a volte questi giorni per il ricordo fanno un po' pensare alla cultura come se la cultura fosse la cultura di un giorno. Invece la cultura è qualcosa di tutti i giorni. Dice giustamente che sono pochi i giorni dedicati al ricordo, ce ne vorrebbero di più. Ma questo è un mondo purtroppo che pare che anche per ricordarci degli affetti, abbiamo bisogno dei giorni, la festa della mamma, la festa del papà, eccetera, quando dovremmo declinare tutti questi contenuti culturali veramente quotidianamente. Solo così riusciremmo forse a guardare avanti e ad evitare quell'ossessione del declino. Mi sembra molto bella questa affermazione che ci sta contagiando un po' tutti, diciamoci la verità, e che ci spinge unicamente al pessimismo e al ripiegamento su noi stessi. Terza parola, il progetto. È bellissimo questo progetto, inteso come darsi un orizzonte. Me ne sono scritte queste frasi perché mi sembrano molto appropriate. Un orizzonte che parte appunto dall'identità e dalla memoria. Ma l'orizzonte deve farci anche riscoprire termini che oramai sono diventati abusati e rischiano di perdere il loro senso effettivo. Libertà, democrazia, federalismo, solidarietà. Molto spesso sono parole che diciamo come slogan, non ne penetriamo a fondo l'intimo contenuto. Progetto è invece dare nuova linfa a tutto questo. Ecco, ad esempio, riprendere, ci invita l'autore, il processo di costituzionalizzazione dell'Europa, che è sembrato un momento di grande entusiasmo e come tante cose poi sono state messe nel dimenticatoio, come il progetto di coesione del popolo europeo. Popolo diversi che valorizzano le loro ricchezze ma che nello stesso tempo tendono a diventare un popolo comune. Lo possiamo fare questo recuperando ragione e sentimento, dice l'autore. Mi piace molto questo aspetto, perché la cultura europea contemporanea li apposti in contrapposizione, quasi chi fosse razionale si deve vergognare dei sentimenti e chi è un sentimentale snobba la ragione. No, assolutamente. Questi sono due cardini sui quali si è costruita l'identità plurimillenaria dell'Europa. Quindi più democrazia significa veramente anche questo, far entrare questi due contenuti nel mercato e nell'istruzione. Anche qui due termini antitetici, ma che credo l'autore ci mostra come debbano e non solo possano andare d'accordo. La parte finale è dedicata alla sfida dell'Europa. Una sfida duplice che l'Europa ha innanzitutto con se stessa. L'immagine che offre di sé nel resto del mondo, dice l'autore, a volte è veramente penosa. Basterebbe pensare ai riferimenti che fa tutta la sua politica estera che l'Europa non ha in comune, nella quale dimostriamo di andare ognuno ancora per conto nostro senza avere una visione d'insieme. E poi l'immagine che dovrebbe offrire le nuove generazioni. Qui ritornano delle pagine molto belle, di ottimismo, anche di stile. Le Stile Salome richiama Buffon in questa affermazione bellissima. Abbiamo smarrito proprio il senso anche del nostro stile. Basterebbe vedere spesso come si parla. Non voglio scendere qui nei nomi, ma quelle pagine dedicate ai giganti e chi gli sale sulle spalle. I giganti sappiamo chi sono. Chi gli sale sulle spalle? Leggeteli perché non ho il coraggio di ripetere certi personaggi. Comunque lasciamo stare. Ecco, non tradiamo questa nostra storia, questa dei giganti. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti perché il sguardo del libro è rivolto al futuro, ma senza dimenticare queste pietre miliari che hanno costruito la storia europea. Altrimenti, e attenzione qui c'è un grande pericolo, poco avvertito secondo me, ma detto con chiarezza dal nostro autore, il pericolo di inseguire categorie astratte e astoriche, che ci porteranno a tradire persino i nostri diritti, come il diritto all'istruzione che sembra uno dei più traditi. Perché così si costruisce ad esempio su un nulla. Invece dobbiamo costruire nel concreto su quel concetto di persona che è un concetto direi quasi esclusivo dell'Europa, che appartiene alla nostra tradizione, non solo al personalismo del XX secolo, ma a tanti personalismi. Mi viene in mente Rosmini in questo momento per dirne uno che sono dei giganti a questo riguardo. Quindi cultura è istruzione nella persona in senso più pieno possibile, senza avere la tentazione allarmistica che hanno alcuni di scagliarsi contro la tecnologia o contro altre visioni culturali. Perché la visione culturale è una visione d'insieme. Evitare poi l'esclusione. Tutti debbono essere integrati nell'Europa, a cominciare da quelli dei singoli popoli. E per far questo l'autore ci dice che bisogna dare risorse all'istruzione. Dovremmo far capire alle istituzioni europee che le sorze date in istruzione sono quelle che renderanno di più a lungo termine e daranno dei vantaggi anche economici a questa nostra Europa. Voglio concludere, perché mai come in questo caso il tempo è tiranno, si dice sempre così, ma questa volta è così, con una frase simpatica dell'autore che ci fa capire il bivio di fronte al quale stiamo. Ma attenzione, il bivio che ognuno di noi ha. La narrazione storica, come la vita in fondo, può presentarsi e può affrontarsi o con le forbici o con un ago, a dire che possiamo tagliare o cucire. A me queste pagine sembra che invitano a cucire. Ecco, questa è la mia lettura del libro e invito voi a fare un'altrettanta profondita lettura. Grazie. Ve l'avevo detto che era veramente bravo, immaginate sui banchi di scuola ci entusiasmava dalla cattedra. Mi ha colpito il riferimento al fatto che il diritto all'istruzione sia tra i più traditi. Il libro stesso si intitola Europa tradita. Ecco, il diritto all'istruzione tradito può sembrare una frase eccessiva, però se pensiamo che oggi in Italia su 100 studenti che iniziano la scuola secondaria superiore nella scuola statale arrivano al quinto anno solo in circa 70-72 e questo tutti gli anni, cioè negli ultimi, per esempio 15 anni su 9 milioni di studenti che hanno iniziato il primo anno della scuola secondaria superiore nelle scuole statali, 5 anni dopo sono complessivamente arrivati all'ultimo anno solo in 6 milioni, quindi 3 milioni si sono dispersi, poi alcuni sono stati recuperati nella scuola non statale o nell'istruzione e formazione professionale, però è un dato che veramente indica che parlare di diritto all'istruzione tradito non è affatto un'esagerazione. Chiudo subito perché vorrei sfruttare al meglio gli ultimi minuti del nostro incontro per dare la parola al professor Ogenti, non senza fare un complimento anche a lui perché se no diciamo allora dice qui il protagonista è il professor Pezzini. Ecco devo dire che una cosa diciamo tra le tante, a parte ci lega anche un'amicizia personale che poi ho ereditato diciamo dall'amicizia che aveva con mio padre fondatore della rivista, però ecco alla fine in questi ormai 25 anni di frequentazione del mondo della scuola, devo dire che diciamo in lui ho ritrovato un combinato diciamo tra raffinatezza intellettuale unita a una capacità diciamo direi manageriale, organizzativa che veramente associate insieme sono diciamo delle qualità veramente rare, ecco e quindi ci tenevo a dirglielo in quest'occasione. Prego Antonio ti do la parola. Pochissimi minuti naturalmente che valgono e devono essere utilizzati per i ringraziamenti soprattutto perché mi pare siamo proprio stretti dal tempo. Ringrazio davvero tutti voi che siete qui, la casa editrice che ha voluto condividere questo progetto di lavoro. il magazine di tutto scuola che ospita come è stato detto una mia riflessione mensile sui temi dell'Europa e della scuola e naturalmente le persone illustri che sono qui presenti che hanno voluto direi con grande sensibilità e raffinatezza accompagnare la lettura di questo lavoro. Lavoro che come ho detto ieri in altra occasione avrei voluto non scrivere in parte perché è un libro questo che denuncia un po' dei motivi di crisi. C'è una nota di ottimismo e non non è risparmiata assolutamente, è stata sottolineata, però siamo in una profonda crisi. Io sono andato un po' al di là nella riflessione sulla Europa contemporanea, al di là dei codici interpretativi abituali che hanno puntato a mettere luce sulla crisi. L'economia mondiale, la mobilità demografica intercontinentale, si potrebbe aggiungere globalizzazione, l'avvento dell'euro eccetera e quant'altro. Io credo che bisogna andare oltre questi fattori interpretativi della crisi e aggredire quella che in qualche modo è risultata chiara a una crisi interna, interiore dell'Europa. Ho usato la parola tragimento non a caso perché in effetti i valori fondanti dell'Europa, quelli che sono consegnati alla memoria storica, che è quella che è, avrebbe bisogno di essere ripresa con abbondanza di riferimenti che sono stati qui anche accennati, che non possono essere ripresi evidentemente. Ecco tutto il patrimonio che l'Europa alle spalle si sta in qualche modo depauperando perché i valori nei quali l'Europa si è riconosciuta fino a qualche tempo fa sono stati e vengono traditi abitualmente, oggi come oggi. Se dobbiamo porre degli interrogativi, l'economia non solo mondiale ma europea, dove va, di che crescita parliamo, di quale successo vogliamo consegnare alle nuove generazioni nel momento in cui si affacciano alla società, non al mercato, non usiamo il termine mercato di riferimento. Se parliamo di mobilità demografica, quali scopi si sta dando l'Europa oggi come oggi per favorire il dialogo tra culture, ma direi tra persone, cioè il rapporto, la relazione tra persone. L'Europa è un soggetto collettivo e come tutti i soggetti collettivi, anche, cioè come tutti i soggetti privati, anche i soggetti collettivi hanno un problema di riconoscimento di se stessa, cioè di se stesso. Hanno bisogno di riconoscersi in qualcosa. L'Europa, che si riconosce teoricamente in qualcosa, sta tradendo questo qualcosa, in effetti, perché sta andando verso direzioni sbagliate. Se posso riprendere la riflessione che è stata fatta recentemente in un libro di un autore che veramente non mi è simpatico personalmente, però ha fatto un accenno molto puntuale. Prima si parlava di liberté, fraternité, egalité. Oggi si parla di globalité, di monnet de marché. La differenza sta in questi termini, cioè noi stiamo andando verso direzioni sbagliate. Sono state qui dette due cose che vorrei riprendere rapidamente circa l'insegnamento della storia, in particolar modo. Certo, la storia, soprattutto per i giovani, è maestra di vita ancora più di quanto non è stata per noi. Sono stati fatti dei tentativi nel passato. Il Consiglio d'Europa se ne è occupato qualche tempo fa, addirittura patrocinando l'elaborazione di un libro di storia con firme abbinate francesi e teresche. È stato un naufragio. Non è stato possibile arrivare ad una composizione degli elementi, diciamo, di civilizzazione che potevano diventare comuni, ma non lo sono stati. Qualche tentativo anche di autori personalmente impegnati in questa direzione sono stati ancora fatti. Io credo che forse qui anche nell'autonomia dei singoli Stati bisognerebbe rivedere in effetti l'insegnamento della storia con matrice diversa. È stato così penetrante Francesco Lui a dirlo, con matrici culturali diversi, per andare in quale direzione. Ha detto Rocco Pezzimenti, richiamando anche un'avvertenza del mio libro, l'identità sulla quale mi sono intrattenuto in qualche modo è un concetto non statico, è un concetto dinamico. Noi non possiamo vivere di memoria, non possiamo vivere di questo patrimonio che abbiamo alle spalle, non possiamo vivere di una identità che è rimasta quella fissata nel tempo. Dobbiamo approfittare delle sfide che abbiamo sott'occhio, sotto mano, sfide continue del quotidiano per rivedere in effetti i paradigmi di un'identità rinnovata. E allora il confronto delle culture, la sfida tecnologica ed economica, il senso di religiosità che sta cambiando. Non possiamo così godere dei frutti di un senso di religiosità che ci è venuta dalla cultura giudaico-cristiana, ma che va in effetti, Papa Bergoglio lo sta dicendo in questi giorni, riveduto in qualche modo. Cioè c'è una serie di cose sulle quali bisognerebbe ritornare. C'è un limite del mio libro, che io vorrei sottolineare, perché ne hanno parlato bene, ma c'è un limite. Qual è il limite? Il limite sta nel fatto che in effetti il concetto di identità andrebbe profondamente analizzato. Perché qui occorrerebbe rimpadronirsi di codici junghiani o freudiani per poter rivedere il nostro essere e il dover essere, il nostro essere e il dover restare con gli altri, il nostro essere e stabilire delle relazioni con gli altri, proprio come collettività, come comunità. La mia tesi conclusiva è che in effetti l'appello va ai giovani, ho piacere che stasera ne siano venuti qui alcuni, almeno perché loro nelle università e nelle scuole dovrebbero raccogliere l'appello per andare verso una comunità di valori fondata sull'idea del federalismo, che personalmente io condivido, naturalmente di un federalismo, come è stato detto, non chiuso. L'Europa non è al centro del mondo, ma l'Europa direi che ha dato qualità ai meccanismi evolutivi intorno ai quali i concetti di base, democrazia, libertà e solidarietà si sono evoluti nel tempo. E quindi non siamo al centro del mondo, ma possiamo dare ancora un apporto notevole alla dinamica, alla dialettica culturale mondiale. Grazie della vostra presenza. Grazie, professore. Sarebbe veramente molto interessante poter approfondire questi spunti. e il tempo a disposizione è limitato, però io per questo invito a leggere ovviamente il libro, insomma. Ecco, diciamo che da piccolo editore sono anche sensibile a questo aspetto e sicuramente invito a leggerlo. Io volevo solo concludere con una brevissima riflessione diciamo, ispirata anche dal luogo in cui ci troviamo, in questa bellissima sala intitolata Adaldo Moro. Il professor Gui è anche, diciamo, figlio dell'onorevole Luigi Gui, che è una figura di grande spessore, diciamo, nello scenario, nella storia politica italiana e nella scuola in particolare, perché sappiamo che è stato il fautore, ministro, tra l'altro della pubblica istruzione e il fautore della riforma della scuola media unica e obbligatoria che è stata fondamentale per il nostro Paese. E il nonorevole Gui era anche molto amico di Aldo Moro. Allora sembrava così appropriato recuperare una frase che è stata pronunciata in questo palazzo e che poi è anche risuonata più volte sicuramente in questa ed altre sale del palazzo in occasione di commemorazioni. Quindi la frase di Aldo Moro che dice se questo Paese non si salverà la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non crescerà in Italia un nuovo senso del dovere. Ecco, questa è una frase che era, diciamo, straordinariamente vera e importante. 40 anni fa, quando è stata pronunciata, lo è, diciamo, anche quasi purtroppo, dobbiamo dire, oggi in Italia, ma forse lo è anche per l'Europa. Ecco, quindi questo credo che anche il concetto, diciamo, di senso del dovere insieme, per esempio, a quello, diciamo, di solidarietà rappresentino un, diciamo così, un elemento fondamentale sul quale partire per un'Europa che non deve essere tradita e che non può tradire su questo piano. Allora, grazie al professor Argenti, ai relatori e a voi per averci ascoltato. Ricordate che abbiamo un cincin in comune, proprio uscendo qui dal palazzo, sulla destra, stiamo un momento insieme, se volete. Un piacere. Grazie. 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 Grazie a me. Dovremmo cominciare perché abbiamo una sorta di palinsesto televisivo, quindi sappiamo per certo a che ora dobbiamo chiudere. L'unico problema che d'altra parte le persone, soprattutto nelle prime file, conoscono perfettamente è che per entrare in questi luoghi all'ingresso bisogna rispettare delle procedure, quindi Giorgio mi dice che potrebbero esserci delle persone che stanno arrivando. Io naturalmente, faccio solo lo speaker, quindi da questo punto di vista vi chiedevo magari la cortesia di aspettare ancora un paio di minuti, però nel senso che ai 14 cominciamo comunque. Grazie 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 Le persone immagino che le conosciate, però insomma alla mia destra c'è Paolo Corsini che è professore di storia e che è stato sindaco di Brescia e che è senatore della Repubblica. Quindi certamente i due ruoli li ha dentro di sé. Io presiedo, insegno diritto costituzionale e sono passato per queste stanze qualche anno fa e Giorgio Valzoni è un'interpretazione diversa, invece lui è stato discepolo, allievo, studente e ha conosciuto Moro in quel periodo. Io dico solo una cosa, perché poi parlerò dopo Paolo, perché Paolo i libri li legge in maniera molto seria, io li leggo un po' meno e quindi ascolto lui e poi io farò delle considerazioni però che mi sono fatte. Io devo dire che una sola cosa, il libro a me è parso scritto, per me è molto importante, insomma io faccio parte anche di una giuria dello Strega e a volte i libri non sono scritti in maniera molto comprensibile. Questo libro è scritto benissimo, devo dire con un garbo raffinato e ha una caratteristica, io così almeno me lo sono inquadrato, è una sorta di backstage, dal punto di vista teatrale o cinematografico, non è quello che avviene sullo schermo, sul palcoscenico, ma è in qualche modo, almeno a me questo è parso, poi magari è una cosa che è fuori tema, però la politica si svolge, noi vediamo svolgersi la politica e vediamo delle scene che sono dietro le quinte in qualche modo, spesso nell'università, spesso in luoghi dove di università si parla. Comunque cominciamo da Paolo Corsini e sentiamo Paolo i 20 minuti e ti interrompo rigidamente. Io sono molto grato all'autore per avermi coinvolto in questa iniziativa e prenderei le mosse da un riscontro di fondo, cioè che siamo in presenza di un testo scritto con grande passione civile e autentico impegno politico, oltre che sotto il profilo della ricostruzione testimoniale di un incontro e di una frequentazione. Perché l'autore, perché in realtà il libro, forse mi spingo troppo in là a dire che posso rivendicare anche una maternità oltre alla paternità, cioè la signora Fiamma Balzoni Rossi. Questo libro in realtà è scritto a quattro mani, perché i due studenti che seguono il corso dell'anno accademico 71-72 di istituzioni di diritto e di procedura penale di Aldo Moro sono l'autore e la signora, la moglie appunto che è qui presente. Perché dico autentica passione civile e politica? Perché in sostanza Moro viene presentato come ancora un segno di contraddizione. Tutti ricordiamo una delle lettere più drammatiche della prigione, in cui Moro, come dire, assegna quasi a se stesso questa continuità nel segno di una contraddizione permanente. In che cosa consiste questa contraddizione che anche da questa vivida testimonianza emerge? Consiste nel fatto che Moro è assolutamente inattuale. Solo che non possiamo limitarci a constatare questa inattualità. Perché in realtà questa inattualità continua ad esprimere un giudizio e per molti versi una sanzione sul tempo che stiamo appunto vivendo. al punto tale che il libro si conclude con la prospettazione di una sorta di periodizzazione della storia dell'Italia repubblicana. Una periodizzazione che io condivido come studioso di storie, cioè che esiste un prima Moro e un dopo Moro. Per molti versi questa interpretazione ha un suo pandante storiografico nella lettura che Francesco Barbagallo fa della figura di Berlinguer. Il libro, direi, scientificamente più serio scritto su Berlinguer è appunto la sua biografia di Barbagallo, il quale nella introduzione si interroga e dice noi abbiamo conosciuto la storia d'Italia con Moro e Berlinguer e ci domandiamo quale sarebbe stata la storia d'Italia se Moro e Berlinguer non fossero stati travolti l'uno da una tragica fine e l'altro dal proprio decesso, dalla propria appunto scomparsa. In che senso Moro è un segno di contraddizione? Perché peraltro nel libro non si ricostruiscono semplicemente molteplici episodi di una frequentazione che è durata appunto nel tempo e che ha avuto molteplici occasioni ma l'autore accompagna con valutazioni, con giudizi, con raffronti sul tempo che stiamo attraversando e mentre Moro è il politico sottilissimo fine della argomentazione di una politica che si regge sulla argomentazione Giorgio ci fa capire che oggi viviamo una politica della recitazione mentre Moro si macera attorno alle modalità attraverso le quali è possibile definire il meccanismo della rappresentanza oggi la democrazia del pubblico vive l'esperienza della rappresentazione c'è una categoria che Moro assolutamente interpreta in tutta la sua biografia politica sia per quanto attiene al ruolo che svolge dentro la democrazia cristiana sia per il contributo che dà allo sviluppo progressivo della vita pubblica nel nostro paese ed è la categoria della mediazione anzi c'è un nostro collega Franco Cassano che ha scritto un bellissimo libro sulla storia di un capolavoro di mediazione oggi la politica dei social e la politica politica si regge sostanzialmente sulla disintermediazione ancora in tutta la vicenda di Moro è fondamentale il ruolo che assume la memoria la memoria della storia la memoria di valori che si tramandano la memoria di una formazione il nostro è un tempo consegnato alla dimensione della rimozione e dell'amnesia ancora Moro definisce in due momenti fondamentali della sua biografia una precisa strategia è come dire il teorico più autorevole dell'esperienza politica della stagione del centro-sinistra la strategia come dire per molti versi del dissolvimento di una sinistra che viene attraverso i socialisti inglobata in un disegno di allargamento delle basi sociali e della rappresentanza politica nello Stato e poi è il teorico della stagione della terza fase che è la stagione del riconoscimento ed è questo un processo che Moro inaugura già il nono congresso della democrazia cristiana e che prosegue poi nei momenti anche ultimi della sua esperienza col discorso di Benevento prima e il discorso ai gruppi parlamentari del 28 febbraio del 1978 oggi la politica è soprattutto una politica uno studioso ha scritto un libro interessante dell'occasionalismo c'è forse una visione una strategia a me non pare Moro è l'espressione di un partito che si regge su dinamiche su meccanismi assolutamente democratici di un partito solido di un partito costituito organizzato strutturato che ha diciamo così momenti di amplissima discussione che comportano anche tensioni laceranti divisioni oggi la forma partito è sostanzialmente monocratica è personalizzata e quindi anche qui Moro è un segno di contraddizione e se utilizziamo la categoria del prima di Moro e dopo Moro è evidente che passiamo dalla repubblica pedagogica alla repubblica demagogica in questo senso io credo che le riflessioni con le quali tu Giorgi accompagni i vari momenti dello sviluppo sia della tua conoscenza personale sia della ricostruzione di passaggi fondamentali della biografia di Moro credo che questo segno di contraddizione appunto emerga e sia assolutamente confermato questo libro ha un altro merito perché su Moro grava un destino veramente come dire crudele se guardiamo alla produzione pubblicistica sulla figura di Moro prevalentemente è incentrata sui 55 giorni a secondo delle interpretazioni che si danno abbiamo faccio parte della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte e sull'assassinio di Moro mentre invece sotto il profilo più strattamente storiografico soltanto di recente l'abbiamo presentato all'Eliseo qualche settimana fa è uscita come dire una biografia scientifica quella di Guido Formigoni pubblicata appunto da La Terza e quindi questo dramma tra la vita e la morte si riproduce addirittura sulle letture che vengono date della figura di Moro che qui viene restituita nella pienezza della sua dimensione umana oltre che politica nella dimensione appunto della sua moralità una moralità che a me pare e ci sono riscontri testuali filologicamente fondati che Giorgio ci offre una moralità più kantiana che non appunto calvinista una sostanziale serietà retta dalla pazienza la quale ci spiega che il rapporto tra tempo e politica è un rapporto che attiene non alla durata ma alla profondità e una dimensione profondamente spirituale e in questo Moro è per molti versi abbastanza atipico nel quadro del personale politico di ispirazione cattolica nel primo nel secondo dopoguerra perché perché una delle fonti fondamentali della spiritualità di Moro è la Bibbia l'Antico Testamento che non ha diciamo così una particolare diffusione negli ambienti cattolici e non influenza profondamente la spiritualità è più un fenomeno che appartiene alla tradizione della cultura appunto della cultura protestante dicevo non ci sono soltanto spaccati anche di vita privata la passione di Moro per il cinema per il cinema western l'interpretazione che offre i suoi due allievi del portiere di notte di Liliana appunto Cavani le camminate l'amore per il sud le vacanze come dire a terra Cina ma da questo libro anche sotto un profilo più strettamente storiografico noi possiamo ricavare alcuni guadagni estremamente significativi ad esempio quando si ricostruiscono episodi dai quali è possibile emergere far emergere il giudizio e la valutazione e il comportamento che Moro tiene nell'occasione del referendum sul divorzio quando dice ai suoi allievi leggete l'articolo di mio fratello che sarà pubblicato domani mattina e poi sostanzialmente dice e fa capire che ha votato sì in relazione al ruolo che ha avuto come segretario di partito quindi più per una intima coerenza che non per una esplicita convinzione o il giudizio che dà del cosiddetto piano solo del 1964 peraltro tutto confermato dalla recente pubblicazione del libro di Franzinelli che è appunto dedicato di Mimo Franzinelli che è dedicato a questo tema in realtà non un tentativo come dire pienamente dispiegato di colpo di Stato ma un'utilizzazione che risale in qualche misura anche alla gestione che ne fa il Presidente della Repubblica per in qualche misura spostare l'asse della scena politica appunto sulla destra quella destra in cui Moro riconosce storicamente e per tutta la durata della sua esperienza politica il proprio principale avversario perché Moro sa che peraltro qui è abbastanza significativo che le critiche da sinistra a Moro siano state assolutamente strabiche perché Moro era consapevole che la democrazia cristiana sarebbe riuscita a trattenere le pulsioni conservatrici e persino moderate e anche reazionarie che attraversano la società italiana e assegna anche alla DC questo compito e del resto mi pare che il gruppo dirigente democristiano è sicuramente più avanti spesse volte dell'elettorato che lo sostiene e da qui scaturisce anche la sua disposizione al dialogo e la elaborazione della strategia della terza fase e gli incontri con Berlinguer ricostruiti anche nei colloqui con Ancona nella sua abitazione privata ancora un moro a cui viene restituito diciamo così a cui vengono restituiti una serie di meriti in ordine ad alcune scelte precise che caratterizzano l'agenda di governo perché c'è questa mitologia di un moro mediatore fino allo sfinimento all'estenuazione che non riesce a tradurre diciamo così la propria strategia politica in un'azione di governo efficace e quindi Giorgio ricorda non so il licenziamento per giusta causa il punto unico di contingenza la riforma del diritto di famiglia il sostegno alla riforma della scuola media unificata mi pare che siano diciamo così aspetti che anche la storiografia più recente in modo particolare il lavoro di Formigoni vengono a confermare il contributo che Moro dà nell'ambito di una elaborazione compiuta della politica estera sia quella mediterranea sia quella europea sia nei confronti del Medio Oriente sia nei confronti della dimensione atlantica del nostro paese ancora la riforma della composizione del CSM questo libro peraltro consente di fare il punto su alcuni nodi che la storiografia ha faticato a sciogliere perché che cosa sostanzialmente emerge c'è quella bellissima serata che tu e tua moglie ricostruite nella sezione della DC di Marino quando Moro spiega che cos'è il moroteismo che non è tanto l'organizzazione diciamo così di una corrente strutturata ma è una corrente di pensiero dalla quale emergono in questo libro diciamo così carlini gli assi portanti innanzitutto gli assi che hanno caratterizzato la sua formazione giovanile fino al 1938 1939 e cioè diciamo così il cristianesimo di convinzione la consapevolezza delle radici evangeliche della democrazia quella che Moro chiama l'apostolato della verità e poi diciamo così l'evoluzione e il suo rapporto con lo settismo la centralità della dignità della persona il ruolo dello Stato come fattore di promozione dello sviluppo e del progresso sociale la centralità della funzione dei partiti come strumento di organizzazione della volontà collettiva e come occasione di rappresentanza dell'interesse appunto generale ma allo stesso tempo le distanze da Dossetti al punto tale che Moro non accetta di diventare il punto di riferimento di una contraposizione a De Gasperi e non condivide di Dossetti la teorizzazione della nuova cristianità perché c'è in lui una dimensione liberale laica della lettura appunto della lettura della politica ci sono alcuni punti dolenti sui quali l'autore o i due autori insistono la questione della trattativa la questione della durezza e della fermezza che tra l'altro soprattutto nella interpretazione dell'autenticità delle lettere porta in rotta di collisione Moro con alcuni degli esponenti di primissimo piano della cultura cattolico-democratica perché a sostenere l'inautenticità delle lettere si schiera lo stato maggiore della storiografia cattolica da Scoppola a De Rosa a Paolo Prodi persino Lazzati mentre invece sono uomini di chiesa quelli che celebrano il primo funerale penso a una personalità che io ho conosciuto e frequentato come Italo Mancini penso diciamo così a a padre Turoldo lo stesso budget bozzo e così via e qui c'è un episodio che mi ha molto intrigato e coinvolto la raccolta da parte dei studenti tu addirittura ne offri l'elenco addirittura il fittissimo elenco di questi studenti che hanno conosciuto e frequentato il loro professore che segnava sull'agenda il loro indirizzo che scriveva lettere umanissime perché c'è una umanità profonda di Moro che da questo libro decisamente emerge gli autori poi non si sottraggono e quindi è evidente tutta la polemica nei confronti della durezza dei partiti di vastissimi settori della democrazia cristiana in questo ho sentito anch'io una sorta di colpa perché ero un po' più giovane ma allora anch'io parteggiavo per il partito della fermezza e della durezza tra l'altro travisato questo partito dal riferimento al modello della resistenza che è un modello assolutamente improprio perché altro è essere catturati nel vivo di una lotta di liberazione di uno scontro dentro il quale si può mettere in conto anche questa situazione e altro invece passare da una situazione di normalità e di agibilità della vita politica a una condizione sostanziale sostanziale di prigionia mi devo avviare rapidamente devo concludere devo concludere i dottori non si sottraggono diciamo così a reinterpretare anche i 55 giorni questo per me è molto appassionante perché come membro della commissione d'inchiesta su Moro ci stiamo interrogando su alcune evidenti aporie nel senso che si conoscono molte verità ma non tutte le verità e qui c'è una disamina a me pare molto puntuale e persino puntigliosa in ordine ad una serie di interrogativi dalla ricostruzione incompiuta dell'aguato di Via Fani alle aporie del memoriale Morucci Faranda registrato da Remigio Cavedon alla interpretazione diciamo così molto complessa e densa di interrogativi di una figura come quella di Mario Moretti ancora gli interrogativi sulla prigione o sulle prigioni di Aldo Moro sulle ragioni che portano sostanzialmente ad un rifiuto della trattativa sulla individuazione del covo di Via Gradoli che vede Moretti presente o perché è avvertito o perché arriva e poi si ritrae insomma mi pare che anche in relazione ad un approfondimento del caso Moro della sua rapimento e della sua e della tragedia che consuma la sua vita questo testo offra diciamo così una serie di spunti la sostituzione di Gaetano Napolitano alla testa del Cesis il ruolo di Piezzenich che in realtà è presente perché vuole come dire destabilizzare per ristabilizzare insomma una serie di chiavi di lettura che mi sembrano particolarmente attuali e quindi credo per concludere che questa sia una ricostruzione per molti versi inusuale innanzitutto perché è una ricostruzione in presa diretta di autori di un autore che sono appunto protagonisti di una condivisione di una immedesimazione e della capacità di interrogarsi insomma sulla complessità di questo personaggio che è forse un caso unico nella storia della politica italiana e quindi credo che anche per gli studiosi di storia questo testo assume le sembianze di una fonte indispensabile e irrinunciabile e questo è sostanzialmente un guadagno non da poco che viene come dire a lumeggiare e a chiarire aspetti come dire rilevanti della complessa strategia di Moro che è compiutamente un uomo della Repubblica che è compiutamente il rappresentante di una diciamo così fase intera della vita politica italiana per concludere devo dire che la lettura di questo testo ha messo uscita profonde nostalgie siccome mi considero un apolide e un uomo della prima Repubblica sostanzialmente un sopravvissuto ritornare a queste atmosfere a questi climi a questa densità di pensiero a questa profondità di riflessione costituisce diciamo così una consolazione che mi permetto di consigliare a tutti ti ho fatto parlare volentieri perché effettivamente insomma sapevo che cosa avresti potuto dire e dare come contributo a questa presentazione io insisto sul fatto che come dire Paolo Corsini ci ha aiutato ancora una volta a vedere quello che avviene sulla scena cioè quello che avviene nella storia quello che come dire è dibattuto controverso e che è la vicenda che riguarda Aldo Moro io io però insisto sul fatto che questo libro ha tutto questo ma è come dire visto da un'ottica particolare cioè è visto da un'ottica almeno io così leggendolo l'ho percepito cioè come un libro in qualche modo che ha la sua originalità proprio nel fatto che vede svolgersi queste situazioni però le coglie dal punto di vista cioè mentre oggi Giorgio lo scrive è chiaro che Giorgio è una persona adulta che quindi queste cose le colloca in un contesto più vasto però nel periodo diciamo che va tra il 71 e il 78 ma insomma soprattutto sono i primi anni dell'università e come dire noi percepiamo delle proporzioni diverse cioè percepiamo il fatto che gli eventi che si stanno svolgendo Giorgio poi diventa giornalista naturalmente Amoro non faceva forse molto piacere il fatto che lui scegliesse questa strada però come dire le reazioni che lui aveva avuto a questi momenti sono reazioni che derivano proprio in un ragazzo e uno studente noi ne abbiamo conosciuti tanti che naturalmente dimostrano una grandissima sensibilità di fronte a questo personaggio che è tutto quello che ha detto Corsini che però voglio dire viene visto nel momento in cui si presenta a fare le lezioni all'università con una regolarità e quasi una pedanteria che che molti professori universitari non hanno una come dire un gusto nel nel vivere insisto dietro le quinte dietro le quinte della politica perché naturalmente in certi passaggi del libro in certi passaggi della vita di Amoro si capisce quanto lui in qualche modo rimpianga il fatto perché vede sempre questa sorta di bivio nella sua strada che da un lato è costituito dalla famiglia dai sentimenti privati dal nipote e dall'altro è costituito anche dalla sua attività universitaria scientifica vorrei dire anche di docente perché qui insomma noi pensiamo che insomma il gusto che aveva Amoro era centrato sull'umanità sull'ascolto cioè lui gli studenti stava bene e andava alle lezioni non mancava anche quando era ministro degli esteri voglio dire anche quando come dire i suoi impegni lo portavano anche fuori dal paese però lui si ritagliava sempre questi tempi e questo era per lui un elemento vitale cioè come dire mi piace anche quando si ricorda come lui dopo le lezioni stesse a fare le chiacchie chiacchierate cioè questo questo momento che era restava con gli studenti e continuava a parlare anzi Giorgio ricorda un episodio che ha fatto sorridere in cui lui praticamente proprio per non andare a tutte le lezioni un giorno praticamente non andò a lezione però andò alla chiacchierata cioè nel senso voleva far capire che insomma non gli poteva mancare del tutto quell'alimento quindi questo è un elemento secondo me importante come lo sono tutta una serie di notazioni che certo Corsini ha visto però privilegia la ricostruzione di Moro uomo politico però voglio dire lui parla di come il suo tratto umano il suo modo di vestire non solo la passione per il cinema o per i gelati ma insomma tutte cose che lo facevano apparire agli studenti un uomo normalissimo cioè normalissimo e anche se naturalmente con la sua autorevolezza perché insomma non doveva essere facile in senso noi pensiamo in quegli anni c'è l'elezione del Presidente della Repubblica l'elezione di Leone e naturalmente lui Moro andava a lezione e parlava con gli studenti insomma non è facilissimo pensare che essendo uno perché lui era un possibile candidato per diventare Presidente della Repubblica e insomma voglio dire in altre epoche probabilmente ci sarebbe comportati diversamente mentre lui andava a parlare degli studenti e parlava proprio della sua lealtà di uomo di partito che non poteva anche se sapeva che i socialisti e i comunisti lo avrebbero potuto votare se avesse trovato un certo manipolo di voti all'interno della democrazia cristiana e però come dire il suo distacco è distacco concettuale ma anche distacco fisico io devo dire che anche io sono stato colpito da quel passaggio che io ho sottolineato sotto grande senso dello Stato e della politica il referendum sul divorzio Giorgio è orgoglioso di avergli carpito il segreto poi si pente lui stesso ha una specie di dramma personale perché da un lato cerca di stanarlo dall'altro poi si dispiace di averlo stanato però il problema quando voleva da Ministro degli Esteri in Consiglio dei Ministri fece votare una sorta di risoluzione perché impegnava i ministri a non prendere posizione sul referendum ripeto ripeto impegnava i ministri a non prendere posizione sul referendum ed era solo il referendum sul divorzio ecco questo è difficile cioè uno è tentato sempre però qui questa cosa ti colpisce non parlo di cose di cui ha già parlato Corsini devo dire vorrei infarcire così uno legge un libro ha delle reazioni le mie reazioni sono abbastanza più banali rispetto a quelle che ha avuto Paolo perché naturalmente lui ha messo insieme tutta diciamo la storiografia il dibattito dove c'è in Tornamoro io invece volevo ricordare un po' come è nato questo libro almeno non nella sua sostanza ma in un in un'occasione e nel settembre del 2015 noi avevamo l'abitudine con Giorgio e con pochi amici di andare a visitare intorno di Roma alcuni luoghi artistici anche suggestivi e poi concludere la giornata a tavola a cena come si fa normalmente in queste cose eravamo affrascati e a tavola abbiamo cominciato a parlare di Moro del libro l'anello di Stefania Limiti che è laggiù Stefania non c'eri però abbiamo parlato del tuo libro e così la conversazione è andata avanti Giorgio e Fiamma apparivano più che coinvolti adesso non so se lei è autrice ma certamente coinvolti in quella serata lo erano a un certo punto Monica mia moglie rivolta verso Giorgio disse ma perché queste cose non provi a scriverle e lui le ha scritte quindi devo dire non è che uno può vantare meriti per il fatto di esserci stato però insomma una piccola occasione l'ha vissuta un altro ricordo che però insomma sempre mi è venuto alla mente perché naturalmente noi dobbiamo spolverare certi cassetti che sono lì e che sono semichiusi io mi ricordo nel 75 io ero oltre che professore ero un giovane vice segretario della democrazia cristiana in Toscana una situazione non si sa bene come capitano queste cose a un certo punto uno viene catapultato era il periodo dell'entusiasmo regionale il periodo in cui si facevano la fase costituente regionale anche adesso ricordarla fa tenerezza ma insomma si pensava che le regioni potessero avere un ruolo e come dire lì laici e cattolici lavoravano insieme in questa fase costituente c'erano i Bassetti i Fanti i Lagorio insomma ricordiamo è un momento che in qualche modo è stato epico insomma io non so perché a un certo punto qualcuno mi dice tu fai il vice segretario della democrazia cristiana lì quello che contava era il segretario che era un fanfagnano proprio di stretta osservanza eccetera però io dicevo io provo a giocare una carta voglio provare a invitare a Firenze Aldo Moro era insomma un compito un pochino impervio però io mi ricordo che scrissi scrissi a suo entourage e uno dei suoi collaboratori mi disse Zaccaria se vuole avere il presidente a Firenze non si qualifichi come vice segretario della democrazia cristiana ma come professore e avrà maggiori possibilità questa cosa a me è rimasta impresse perché io ero molto orgoglioso di essere vice segretario poi un'altra cosa che vedo alcuni amici qui che sono presenti del mondo della RAI e qui è un altro aneddoto che mi viene in mente ed è dell'anno 1977 il direttore della RAI dell'epoca Glisenti vi ricordate era stato nominato Paolo Grassi e Glisenti era l'idea della RAI di periodo di Zaccagnini non posso dire Zaccagnini perché Zaccagnini non se ne curava direttamente ma insomma era quel periodo in cui fu possibile fu possibile chiamare al vertice da RAI un uomo come Paolo Grassi e un manager come Glisenti il quale Glisenti non reste tanto reste un sei mesi circa e si dimette dopo sei mesi quindi deve essere scelto un nuovo direttore generale in quel momento in RAI c'erano due pezzi da 90 Fabiano Fabiani e Villi De Luca e quindi tutti pensavano che sarebbe stato uno di loro due a entrare in campo i sei consiglieri di amministrazione vanno da Moro evidentemente ritengono che sia importante avere una sua valutazione e dicono Presidente abbiamo pensato di indicare il nuovo direttore generale voi sapete che per tradizione il direttore generale della RAI era espresso dal partito di maggioranza relativa lui dice chi dei due avete scelto tra Fabiani e De Luca loro dicono un terzo nome Moro li guarda pensoso e poi dopo una breve pausa aggiunge se lo dite voi quindi questo fa capire tutta naturalmente la storia ha preso una piega diversa ma era il modo in cui lui si rapportava anche a queste cose di una certa importanza c'è un altro è l'ultimo ricordo che è del gennaio del 78 che ricavo da quel che scrive Giorgio e anche da un libro recente di Padellaro in quel periodo gennaio del 78 Faenza il regista scrive e monta un documentario dal titolo antessignano Forza Italia su alcune degenerazioni della democrazia cristiana una sorta di mutazione antropologica anche lì lo vanno a vedere una sorta di anteprima Bodrato Zucconi e qualche altro e ne riescono in silenzio dalla sala molto molto preoccupati devo dire che invece risulta Aldo Moro risulta proprio in una lettera dal carcere delle BR Moro riferisce di essere andato a vederlo in un cinema del centro di Roma e di esserne rimasto profondamente colpito mentre la reazione degli organi ufficiali della democrazia cristiana fu tutt'altra fu di come dire di ripudio sostanzialmente ecco ho finito cioè io voglio questi ricordi possono essere tanti devo dire che sarebbe possibile nel panorama politico di oggi emergere o far emergere una figura paragonabile a quella di Aldo Moro l'ha detto in qualche modo anche Corsini io lo dico da un altro punto di vista non parlo della statura politica e morale parlo solo di un modello politico lontanamente paragonabile in fondo nella prima repubblica ci sono stati molti politici che si dividevano anche con una importante attività professionale oggi con questo nuovo criterio di scelta di formazione della classe politica sarà ancora possibile è un punto interrogativo che chiude il mio discorso grazie adesso do la parola sono rimasti otto minuti ma insomma se sforiamo di due minuti come succede in televisione possiamo far parlare dieci minuti l'autore Giorgio ma io io credo che non sforerò vorrei aggiungere due o tre cose che nel libro non ci sono così diamo un senso alla presenza vostra qui uno tanto ormai il senatore Corsini ha raccontato di me e mia moglie e vi dico che il giorno in cui ci siamo sposati eravamo convinti Moro vuole essere lui testimone di nozze eravamo convinti che da buon come dire uomo del sud di regalo ci avrebbe fatto la cornice d'argento il piatto d'argento invece ci mandò un radioregistratore portatile sapendo qual era il nostro mestiere quello di me e di mia moglie a dimostrazione della modernità del personaggio c'è un'altra cosa molti si chiedono perché fosse sempre vestito con abiti interi di grigio di blu perché odiava gli spezzati perché per lui gli spezzati rappresentavano la sua povertà da giovane quando i vestiti si facevano con i pantaloni di uno e le giacche di un altro ultimo elemento e questo me l'ha ricordato il mio amico Tonino Manzi nei giorni scorsi perché era orgoglioso di avere una corrente che al massimo aveva raggiunto l'8% a Tonino disse si va al supermercato dei voti ma poi si deve passare alla cassa che mi pare un elemento di una certa rilevanza però io vorrei ricordare qui innanzitutto il fatto che Aldo Moro da professore non ha saltato una sola lezione qui c'è il suo assistente Saverio Fortuna che può essere una riprova non ha saltato una sola lezione nell'anno accademico nostro e credo l'abbia fatto sempre ne ha saltato una sola noi ci vedevamo il lunedì il mercoledì e il venerdì ne ha saltato una sola per impegni era ministro degli esteri e aveva avuto un impegno istituzionale ci chiamò e ci fece recuperare la lezione il giovedì al ministero degli esteri questo per dirvi come dire la serietà del personaggio e e qui ho finito ho finito praticamente devo solo ringraziare l'editore Alastaria che si è messo in questa operazione e dire due cose su sul senatore Corsini e su Roberto Zaccaria e cioè come Aldo Moro mi ha spiegato il portiere di notte che avevo visto e non mi aveva convinto e ha passato poi una di quelle nostre mattinate di chiacchierate l'ha passata a spiegarmi il portiere di notte cosa che io evidentemente sono riandato a vedere che mi ha completamente emozionato oggi stasera il senatore Corsini e Roberto Zaccaria mi hanno spiegato il mio libro mi hanno fatto vedere delle cose del mio libro che io oggettivamente onestamente non avevo non avevo colto e vi dico soltanto questo che Zaccaria ha usato il termine garbo raffinato Corsini ha usato il termine passione civile vi devo dire che mi bastano queste loro parole a giustificare tutta la fatica di questo libro grazie 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 bravo bravo grazie Grazie a tutti. 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 Per certi versi molto dure e molto violente ma anche molto precise con le indicazioni dei nomi e dei cognomi dei protagonisti di queste vicende in Italia. E poi ci sono le pagine che riguardano l'attuale stagione che non è un'anomalia, non è una parentesi ma mi sembra di capire leggendo questa storia è la conclusione, è il coronamento di questi vent'anni, di questi venticinque anni. Da questo punto di vista le critiche che si fanno a Matteo Renzi sono inserite in questa storia, non sono fuori. Matteo Renzi assume nelle pagine di Cirino Pomicino i connotati del campione di questa stagione che deve portare a compimento la distruzione della democrazia rappresentativa. Per cui espressioni come deriva autoritaria, tu scrivi a pagina 77, la deriva autoritaria ridurrà anche altre libertà, dalla RAI alla scuola alla libertà di insegnamento. C'è l'attacco concentrico al Parlamento della Repubblica, fondamentale difesa della democrazia sotto tutte le latitudini e che in Italia rappresenta l'ultima trincea. L'attacco a tutte le istituzioni di garanzia, deriva autoritaria che è un'espressione che, arriviamo alla stretta attualità, è un'espressione che ricorre continuamente anche nei faccia a faccia televisivi e nelle polemiche di queste settimane tra il sì e il no, è un'espressione che Cirino Pomicino utilizza a piene mani nel suo libro di un anno fa, anche perché dice l'autoritarismo politico è una delle caratteristiche del capitalismo finanziario. L'Italia non sarebbe più un'anomalia come è stato per tanti decenni e invece pienamente inserita in un processo molto più ampio in cui, a differenza di quanto abbiamo visto nel Novecento e prevedevano i tanti teorici liberal-democratici, l'economia liberista, il capitalismo e le libertà e le istituzioni della democrazia e della sovranità popolare, anziché incontrarsi e incrociarsi come da modello virtuoso del Novecento, hanno finito per separarsi e da questo punto di vista mi sembra una critica intanto originale che viene da una tradizione politica come quella del cattolicesimo politico, anzi tu scrivi l'unica cultura politica non usurata è il cattolicesimo politico, anche se su questa categoria poi, sia sull'espressione e sia anche sulla categoria in sé del cattolicesimo politico potremmo discutere, nel senso che abbiamo appena finito di assistere alla presentazione di un libro su Aldo Moro e ci sono stati nella democrazia cristiana e anche nella cultura del cattolicesimo italiano tanti cattolicesimi politici, un cattolicesimo democratico, un cattolicesimo popolare, un cattolicesimo sociale, un cattolicesimo senza aggettivi di antichissima tradizione, di ottocentesca tradizione e quindi su questa categoria si potrebbe discutere. Ma mi interessa ritornare e chiudere, per lasciare poi la parola a Ferruccio De Bortoli e poi magari interloquiremo un po' sulla questione delle giovani marmotte perché se tu a Renzi non risparmi nulla né la capigliatura né addirittura il modo di camminare che a un certo punto scrive mi fa tenerezza, guardatelo quando cammina e passa in rassegna le truppe degli altri stati, quando c'è un capo di stato, quando va in visita all'estero o quando un capo di governo straniero viene in Italia. Quindi è un attacco a tutto tondo e perfino su un piano di costume e comportamentale. Però se l'attacco poi arriva a questo livello c'è da chiedersi se appunto siano così da sottovalutare le giovani marmotte o se invece non rappresentino qualcosa di prendere molto sul serio e se questa stagione che sta rappresentata via via come di insostenibile leggerezza, di insostenibile superficialità, mancante di cultura politica, mancante di classe dirigente, sia invece molto da prendere sul serio nella sua doppia dimensione, di continuità con alcune stagioni politiche, tu citi ripetutamente il trasformismo parlamentare, quindi i notabili e le persone che sostituiscono i partiti e si accordano tra di loro, sia nei suoi elementi di discontinuità. E quindi la domanda se questo referendum rappresenti un momento di discontinuità con le passate stagioni nel senso di introdurre nella storia unitaria e nella storia repubblicana un elemento di forte personalizzazione e quindi anche di richiesta di voto per una persona e per un ristretto gruppo dirigente che in ogni caso rappresenta una novità perché in fondo anche il referendum del 2006, quello berlusconiano, apparteneva alla coda del berlusconismo, anzi in quel momento Berlusconi è stato addirittura sconfitto, era da due mesi fuori dal governo perché sia pure di misura, come tutti ricordano, alle elezioni del 2006 aveva vinto l'unione di Prodi. Mentre qui c'è la richiesta di costruire un nuovo inizio, una data che anche nel suo aspetto simbolico possa rappresentare quello che per la Francia fu il referendum gollista, cioè l'inizio della Reale Seconda Repubblica. Quindi se da questo punto di vista le giovani marmotte sono prese forse un po' troppo alla leggera o se rappresentano una sfida invece molto più ampia, più interessante da raccontare, per noi facciamo gli osservatori, o da combattere per chi ne è un avversario, insomma qual è la portata di questa sfida e dal punto di vista di chi appunto non fa solo un osservatore ma ha scritto un libro per fare battaglia politica, qual è l'alternativa che bisogna mettere in campo. Ferruccio De Bortoli. Grazie, buonasera a tutti. Io devo premettere che non ho nulla da dire contro la camminata di Renzi che trovo perfetta, quindi volevo subito distanziarmi dall'analisi di Paolo Cirino Pomecino. E mi domandavo, leggendo questo libro, quale fosse la vera identità del suo autore. Cioè se si tratta di un democristiano di lungo corso, come dice il sottotitolo, oppure di un politico che non accetta di essere fuori corso. Oppure che si tratta di un irriducibile nostalgico della Prima Repubblica che non si rassegna al trapasso della storia. Ora, si può essere più o meno in sintonia con le tesi di Paolo Cirino Pomecino, ma su un punto credo che possiamo dirci tutti d'accordo. Cioè l'autore è un testimonial, secondo me, di quanto possa essere forte la passione per la politica. Irresistibile la sua attrazione e come non tramonti con gli anni. Anzi, io devo dire, avendolo conosciuto da più giovane, che con gli anni è ancora più forte, è ancora più pervasiva, è ancora più giovanile e, se vogliamo, limpida. Allora, Pomecino è un ottimo comunicatore e ha anche una sua capacità teatrale di esporre le idee e di battersi lealmente per sostenerle. Io non credo che si ritenga un politico fuori corso. Devo dire che è certamente un giornalista e uno scrittore totalmente in corso, totalmente in corso, qualche volta persino in corsa, nel senso che fai troppe cose. Come dimostra, tra l'altro, la freschezza della scrittura e anche la godibilità di questo libro. Io sono dispiaciuto personalmente di non aver apprezzato per tempo questo suo talento professionale. Cioè, questo talento professionale mi è sfuggito. Poi l'ho scoperto sotto falso nome, ma all'inizio devo dire che mi sono trovato totalmente impreparato. Allora, vengo al dibattito sulle idee esposte in questo libro. Io non ho personalmente nostalgie passatiste, ma ritengo che si sottovaluti, anche peraltro in questa campagna referendaria, l'ho detto peraltro molto bene prima Marco Damilano, io credo che si sottovaluti un po' il rischio di un progressivo indebolimento della democrazia rappresentativa. In questo, diciamo, la perdita di rilevanza della scelta dell'elettore che io temo che si allontani progressivamente dalle urne e se vota, lo fa sempre più spesso, non solo in Italia, per carità, questo forse avviene in maniera persino più pronunciata all'estero, e se vota, lo fa per esprimere più un disagio, una protesta, anziché scegliere un proprio rappresentante, il destinatario di una delega politica. Dobbiamo dire che la nostra Costituzione prevede il mandato generale e anche la riforma che stiamo discutendo in questi giorni mantiene, diciamo, l'idea del mandato generale con l'articolo 67. In questo libro, questo libro però, credo che ci aiuti a riflettere sugli effetti negativi per il valore della cittadinanza, e questo credo che sia uno dei passaggi cruciali del libro, gli effetti negativi di questa progressiva sensazione di esclusione che prova l'elettore, che è una sorta di condizione di estraneità che lo spinge, peraltro, molto più facilmente nelle braccia del qualunquismo e nella spirale anche della chiusura identitaria, cioè nell'avere paura del confronto. Ecco, io credo che questa deriva vada analizzata in maggiore profondità. Allora, questa sindrome, questo distacco tra elettore e istituzioni, si somma poi, e anche questo aspetto è stato ricordato all'inizio da Marco Di Milano, si somma all'isolamento punitivo che, soprattutto la classe media, in particolare i giovani poi, e tutti coloro che si sentono poi esclusi dal processo di globalizzazione. Perché i due fenomeni vanno paralleli. Da un lato c'è un distacco progressivo tra l'elettore e le istituzioni, e poi c'è un senso di isolamento che, soprattutto la classe media delle società occidentali prova, cioè siamo esclusi dalla globalizzazione, anzi, addirittura ci sentiamo vittime della globalizzazione. Siccome poi il potere si ritiene, ma è anche avvenuto, cioè c'è stata una devoluzione verso l'altro, verso l'Unione Europea, verso centri di potere internazionale, questo senso di estraneità io credo che sia il principale problema politico che abbiamo di fronte e che riguarda tutte le forze politiche, e che nessuna esclusa, ovviamente tranne quelle che di questo processo sono i beneficiari. Allora, questo tema credo che sia colpevolmente sottovalutato nel dibattito attuale. Il libro di Pomigino ha il merito, alla sua maniera, ovviamente qualche volta con un po', se volete, un po' immaginifica, a volte anche un po' frettolosa, nel senso che hai voglia di dire il tuo pensiero e qualche volta lo fai con una certa fretta. Allora, questo libro ha il merito comunque di attirare l'attenzione del lettore sulla sottovalutazione del ruolo anche dei corpi intermedi nella società italiana, non soltanto dei partiti, e guardate, non c'è soltanto il tema della nostra genera dei partiti nella loro forma novecentesca, c'è il tema del peso specifico dei corpi intermedi nella nostra società. Allora, al netto della grande nostalgia per l'ADC, che ovviamente lui ha, è incontenibile e inconsolabile, che io e Marco Di Minà abbiamo molto di meno, ovviamente. Però dovresti ricordare, quando Renzi dice che ci sono stati 72 governi, che voi della democrazia cristiana ne avete fatti una buona parte e che nella Prima Repubblica cambiavano spesso, ma eravate sempre voi. Quindi c'era la massima stabilità, insomma, questo andrebbe partecipato. Anzi, si diceva che c'era una democrazia bloccata, quindi il massimo della stabilità assoluta. Allora, al netto della grande nostalgia per la democrazia cristiana, in una società plurale e piena di contraddizioni e di conflitti come la nostra, i corpi intermedi hanno garantito per tanti anni non solo la rappresentanza e la rappresentanza degli interessi. Diciamoci chiaramente, a volte una rappresentanza del tutto miope su quelli che erano poi gli interessi generali. Ma hanno garantito un grado di partecipazione piuttosto elevato e soprattutto l'identificazione degli appartenenti a questi corpi intermedi ad una sorta di processo nazionale, di crescita, di costruzione della società futura. E questo, secondo me, è stato il grande pregio, il grande merito dei corpi intermedi, partiti, sindacati, organizzazioni di vario livello. Allora, in un processo di questo tipo, liquidarli frettolosamente come sta accadendo adesso, facendo pagare poi peraltro molte delle loro colpe, insomma, delle colpe cooperative, a me colpisce molto il fatto, che avrete notato anche voi, che è cambiato tutto, sono cambiati tutti i nomi dei partiti, non ci sono più le banche come una volta, anche le società grandi, ma sono rimasti con Findusa, CGL, Cisle, Wille, cioè le parti sociali sono rimaste ancora aggrappate alla loro identità del Novecento. Allora, questo ha dimostrazione che c'è stato uno scasso rinnovamento, quindi... Però, al di là di queste colpe, certamente non mi metterò a difendere quella che era la concertazione dei tempi di Pomincino, insomma. Però, tra un estremo e l'altro, ci può essere una fase intermedia nella quale questi corpi possono essere giustamente valutati nel loro compito istituzionale anche di far sì che i legami della società possano essere tenuti vivi, insomma. Allora, sottovalutare il peso specifico dei corpi intermedi è dimostrazione di miopia politica. Allora, anche perché noi abbiamo bisogno di rinsaldare sempre di più, e questo lo dobbiamo fare ancora con maggiore forza in una società multietnica, abbiamo bisogno di rinsaldare quelli che sono i legami, quelli che sono le ragioni che ci tengono insieme come comunità civile. E i corpi intermedi in questo svolgono una funzione fondamentale. Allora, sottovalutarle io credo che sia colpevole, che sia mio dal punto di vista politico. Allora, non ci può essere poi soltanto il rapporto diretto via mediatica tra il leader e la massa, che poi viene ridotta spesso a una sorta di audience ammaestrata. Allora, un passaggio secondo me fondamentale del libro di Paolo è quello anche di rivalutare la funzione dei corpi intermedi. Poi vorrei dire altre poche cose sul resto del libro. Io non credo come l'autore alla teoria dei complotti internazionali. Lui è molto affascinato da questo fatto dei complotti internazionali, anche dei disegni politici sofisticati, per esempio dei gruppi editoriali. Lui li cita, insomma. Io, avendoli conosciuti all'interno dei gruppi editoriali, li trovo incapaci di un pensiero politico così raffinato e di un'organizzazione così dettagliata e lucida, non essendo a volte incapaci nemmeno di far quadrare i conti dei propri gruppi. Quindi io francamente non li vedo, avendoli vissuti all'interno. Però, devo dire che lui è affascinato dall'idea che ci possa essere un'interferenza che poi finisce per delegittimare i partiti. Certo, c'è stata un'invasione di campo, ci sono stati molti disegni, forse più chiacchiere che disegni. Posso convenire che l'establishment, cioè la grande finanza, abbia avuto e continui ad avere dei pregiudizi e abbia spinto anche a livello internazionale per soluzioni tecniche. Peraltro non sempre fallimentali, perché poi la storia dovrà dire che alcune soluzioni tecniche, che sono intervenute in varie fasi nel nostro Paese, non sono state così fallimentali. Anzi, hanno prodotto dei risultati, almeno a breve, apprezzabili. Allora, io trovo che la Prima Repubblica, poi l'implosione dei partiti, in particolare della democrazia cristiana e di un sistema che poi era risultato molto colluso con le grandi imprese e che ha fornito, tra l'altro, abbondante materiale ad una magistratura dall'occhio certamente strabico, specie a sinistra. Allora, sulle cause della fine del mondo che rimpiange Pomicino, io mi sarei aspettato da lui qualche nota autocritica supplementare, che non c'è, francamente, nel libro. Sono però perfettamente d'accordo con lui su un'analisi della finanziarizzazione dell'economia. Questo è un aspetto che mi trovo completamente concorde. Perché, e soprattutto sulla sua critica al liberalismo più acceso, al liberalismo un po' elitario di alcune parti, anche di questo establishment che lui critica, un liberalismo a volte elitario e autoreferenziale, e peraltro refattario, qui hai ragione, Paolo, alle logiche democratiche, anziché vive e continua a vivere le logiche democratiche come un intralcio all'efficienza del sistema. E devo dire che forse, da questo punto di vista, anche la politica è stata condizionata in negativo da questo tipo di ragionamento. Allora, io penso che la separazione, per esempio, come tu dici, tra banche commerciali e banche di investimento, con il Glass-Steagall Act, sia opportuna. Cioè, questo fatto, tu giustamente, vede, nel momento in cui, tra l'altro, sotto la presidenza Clinton, si rinuncia a questa separazione e si dà vita alla Banca Universale. Ecco, un ragionamento sul funzionamento della Banca Universale e sui guai che la Banca Universale poi ha creato, credo che sia assolutamente di grande attualità. Trovo intelligente e suggestiva la sua ricetta per uscire dalla morsa del debito pubblico, tra l'altro, di cui tendiamo a dimenticarci. Questo è un aspetto del dibattito politico che vorrei soltolineare in questa occasione. Cioè, guardate, gli stranieri guardano al nostro debito con una preoccupazione crescente, anche perché è un obiettivo di politica economica che non solo non abbiamo centrato, ma abbiamo persino abbandonato sotto, diciamo, l'influenza, a questo punto, nefasta dal punto di vista culturale dell'allentamento monetario della Banca Centrale Europea. Perché prima o poi questa manna finirà e prima o poi torneremo a finanziare il nostro debito a tassi che non sono quelli che non meritiamo attuali. Ah beh, certo, sicuramente. Vabbè, certo, vabbè. È una soluzione, è uno scorciatorio. Non bisogna più chiedere. Poi dopo non ti finanzi più sul mercato, il problema è questo. Però io trovo suggestiva anche la posizione che Paolo esprime in questo libro sul tema dell'alto indebitamento del Paese. Accolgo e, ahimè, confermo alcune delle critiche che lui muove, per esempio, al processo di privatizzazione, che lui peraltro ha vissuto, insomma, come protagonista, che certamente è stato gestito male, gestito male non soltanto dalla classe politica, ma dalla stessa classe imprenditoriale. Ed è questo un altro punto importante del libro, che era più desiderosa, e questa, diciamo, è una considerazione che si fa poche volte, che era più desiderosa quella parte privata di rifugiarsi negli ex monopoli pubblici e di accrescere, piuttosto che accrescere la concorrenza e internazionalizzarsi. Quindi noi abbiamo avuto il paradosso che negli anni vostri, della fine della Prima Repubblica, c'era comunque un establishment privato già fortemente internazionalizzato che spingeva per aprire i mercati. Nel momento in cui c'è stata la privatizzazione, gli stessi protagonisti che spingevano per aprire i mercati si sono rifugiati negli ex monopoli pubblici e quindi hanno in parte rinunciato al loro spirito concorrenziale. Tant'è vero che adesso la legge più negletta è quella sulla concorrenza, ed è la concorrenza, non sentiamo una grande mancanza, non c'è una grandissima spinta, e qui faccio anche una critica agli stessi mezzi di informazione, non c'è un grande dibattito su perché non abbiamo più concorrenza. È ovvio che se tu spingi per creare più concorrenza ti inimichi alcune delle corporazioni di questo Paese, però questa è una leva dello sviluppo che noi abbiamo rinunciato in questa fase a utilizzare e a percorrere. Finisco, esemplare poi la ricostruzione dell'affare non per l'azionista che il pubblico è nel wind che lui fa. Sull'Europa c'è un punto pomicino sul quale ha certamente ragione, forse la Costituzione la doveva scrivere il Parlamento, ma mi chiedo poi se sarebbe stato capace di scriverlo. Tra l'altro questo fatto che la Costituzione sia stata abbandonata, sia stata sepolta, cioè sia stata addirittura estromessa dal dibattito pubblico, questo è un altro tipo di argomenti che forse sarebbe la pena di ripetere. Forse è una delle crisi che stiamo vivendo e anche per il fatto che non abbiamo comunque una Carta Costituzionale Europea alla quale ispirarci. e forse ci fosse stata una Carta Costituzionale Europea avremmo avuto una commissione più coraggiosa che non avrebbe rinunciato al proprio potere di stringere degli accordi commerciali peraltro previsto quello che mentre e avrebbe detto no probabilmente a Francia e Germania che chiedevano invece un passaggio parlamentare. Allora, il libro di Pomicino in conclusione è uno sguardo di grande valore sulla politica interna non è un libro nostalgico si interessa di temi di particolare rilevanza e attualità mi ha colpito il capitolo nel quale Andreotti scoraggia Bush padre dall'abbattere Saddam Hussein anche quello è un passaggio anche tutto questo tema della guerra del 2003 è raccontato molto bene quindi io devo dire che il giornalista di lungo corso a questo punto Pomicino non delude spiega argomenta lo fa con la capacità di cui è padrone di cui è testimone chiama tutti i suoi amici anche quelli che probabilmente non lo sono ma questo è un vezzo sono tutti il mio amico è un vezzo democristiano gli sconsiglierei di scrivere lettere al Presidente della Repubblica ponendogli delle domande imbarazzanti e poi non devi neanche stupirti che non ti risponda perché se tu fossi stato al posto del Presidente della Repubblica non avresti risposto grazie Paolo grazie grazie a Ferruccio De Bortoli a Marco Damilano per questa carrellata sul libro che è stato pubblicato a dicembre scorso ma che io ho scritto durante i mesi estivi e in realtà ero preoccupato se ripresentarlo alla Camera in realtà l'iniziativa è stata della Camera e della Casa Editrice e ho visto in realtà che quello che avevo scritto un anno fa oggi è forse più che mai attuale rispetto alle due grandi questioni ai noi esatto alle due grandi questioni al declino politico da un lato e alla crisi economica in particolare finanziaria che sta devastando le società nazionali in particolare nell'Occidente ma sul declino politico è sotto gli occhi di tutti quindi voglio dire non aggiungo molte cose se non quello di recuperare la frase che Marco da Milano ha voluto prendere quando il cattolicesimo politico era ed è l'unica delle grandi culture politiche del novecento che non si è usurata dal tempo ma questo non lo dico perché sono una curva sud del cattolicesimo politico lo dico perché in realtà la grande sfida che abbiamo davanti soltanto la chiave di lettura del cattolicesimo politico riesce probabilmente ad affrontarla devo ricordare Giovanni Paolo II addirittura iniziava nel 1990 a mettere in guardia sulla sulla crescita di fenomeni egemonici all'interno dei mercati finanziari e oggi Bergoglio qualche volta anche qualche amico che non condivide l'attività pastorale di Papa Bergoglio ma ne toglie in realtà lo spirito come dire scusate il besticcio di parole ispiratore di quella che fu anche all'epoca la rerum novarum sulla quale poi si intavolò all'epoca cent'anni fa e più avere tutto il dibattito culturale sulla trasformazione politica della cultura del cattolicesimo e quindi su questo versante aggiungo di più che io vedo che molti autorevoli leader della democrazia cristiana sono ampiamente ricordati e santificati quando sono morti ora io ho visto su Aldo Moro presidente ma addirittura sul fatto quotidiano grandi ricordi di Nino Andreatta cioè io non lo dico per battute ma quando i democraziani muoiono vennono ricordati qualche volta anche i santificanti quando sono vivi ognuno tenta di pigliarsene qualcuno quando stanno insieme tutti quanti diranno che sono pericolosi quindi voglio dire diventa una cosa veramente caffichiana rispetto a questo però il dato di fondo è che il declino della politica non è soltanto per la scomparsa di una formazione di ispirazione cattolica di ispirazione cristiana ma sono portate in soffitta tutte le grandi culture politiche che rappresentano nel dibattito politico la bussola per poter provvedere ad un certo tipo di soluzioni dei problemi esistenti faccio un esempio portandolo anche all'attualità quello che dice Renzi in queste ore io ho sentito ieri sera porta a porta e beh dice delle cose giuste sull'Europa ma perché non l'ha detto ad esempio quando l'Europa ha dato 6 miliardi alla Turchia per evitare la migrazione per la via balcanica mentre invece a Grecia e a Italia è stata data soltanto la possibilità di indebitarsi in più e nessuno ha parlato perché da anni la Germania ha un avanzo commerciale sempre crescente e nessuno mai ha sollevato un problema riguardando quello che era uno degli elementi fondamentali del patto di stabilità e di sviluppo all'interno degli accordi di Maastricht che cosa voglio dire voglio dire che la mancanza dei partiti che in questi vent'anni Ferruccio si sono trasformati in partiti personali la personalizzazione dei partiti ha due effetti precisi la rimozione delle culture politiche e la mancata selezione darwiniana delle energie e delle idee cioè io come sono cresciuto io come tantissimi altri siamo cresciuti all'interno di ordini collegiali di partito dove ci si scontrava anche dice Marco Damirani ci sono molti cattolici diversi ma certo ma un grande partito che ha 12 13 14 milioni di elettori ma che volete che i suoi dirigenti siano in fila per due ognuno ha sensibilità diverse se invece sono in fila per due la trasformazione è quello che sta accadendo e le giovani marmotte camminano uno dietro l'altro ma aggiungo di più ricordatevi che la personalizzazione dei partiti che è stato un elemento fondante in questi ultimi vent'anni Renzi che cosa sta facendo Renzi con lui il partito democratico uno dietro l'altro stanno trasformando quel modello anche nelle istituzioni e anche nella costituzione questa è l'operazione politica che stanno facendo che trasforma la democrazia politica e la rende oggettivamente chiunque sia il presidente del consiglio a fare che cosa a mettersi intorno il famoso cerchio magico non a caso poi i giornalisti hanno mille difetti ma anche qualche virtù e quindi individuano ed incettano rapidamente i fenomeni che ci sono e il cerchio magico è una cosa che non esisteva nei grandi partiti sia quelli democratici che quelli più centralisti come il partito comunista ma nessuno aveva mai immaginato altro elemento che ci fossero nelle camere addirittura famiglie intere non la dinastia americana che ormai da qualche tempo ci sta abituando alle grandi famiglie che si alternano alla guida del paese ma addirittura io dicevo scherzando prima o poi arriveremo che il presidente della camera dirà la parola a mio cognato perché in realtà è vero che ci sono figli sorelle parenti e quant'altri mentre al contrario io non posso dimenticare che nel caso specifico del cosiddetto familismo D'Alema figlio è arrivato alla camera quando il padre ne era uscito gava figlio e arrivato quando gava padre se ne era uscito che cosa voglio dire che c'era una forse dico una cosa che qualcuno può non condividere la eticità della vita democratica che prevaleva rispetto anche a rapporti che possono essere anche nel tempo stati deteriorati da mille altre cose però non c'è dubbio che anche sul versante socialista sul versante liberale sul versante liberale sul versante liberal c'è una una decadenza complessiva è vero di mancanza di visione quando De Bortoli e lo ringrazio per aver colto questo aspetto perché io ero deputato europeo e andai pur essendo facendo parte della commissione affari economici e monetari andai nella commissione affari costituzionali del Parlamento europeo a spiegare che la costituzione fatta da 100 illuminati in cui tra i 100 c'erano solo 15 parlamentari europei sarebbe stata sconfitta dal voto popolare ma non è che io fossi un unto dal signore e riuscivo a prevedere ma era logico perché la politica poi ha un profilo scientifico molto accentuato cioè che a determinati comportamenti non servono determinati avvenimenti e infatti la mancanza di costituzione aggiungo di più aggiungo di più ma io questo l'ho detto ad esempio domani senza fare nomi ma qui lo posso fare siamo un po' di amici naturalmente è vero l'ho scritto sul foglio in un'intervista che mi fa il foglio io ho tentato di spiegare ad alcune minoranze di alcuni partiti che una eventuale visione diversa verso il segretario del proprio partito presupponeva una visione una visione che in realtà bisognava un attimo affrontare le grandi sfide come la riforma dei mercati finanziari perché la globalizzazione io lo voglio dire non è l'elemento fondante della crisi che noi stiamo vivendo la globalizzazione ha fatto uscire un miliardo di persone dalla povertà nel mondo e la finanziarizzazione voglio dire che il rapporto fra globalizzazione e finanziarizzazione è lo stesso che c'è fra economia di mercato e il suo figlio drogato che è il capitalismo finanziario perché naturalmente entrambi sono degenerazioni che hanno determinato quello che sta sotto gli occhi di tutti che sta alimentando fenomeni populistici naturalmente e aggiungo di più in una cosa importante lo ha rilevato Ferruccio De Bortoli vedete la manovra di Draghi il quantity di Wising la possibilità di offrire danaro senza alcun interesse è una misura da pronto sottorso perché in pronto sottorso si fanno cose che non si fanno nelle corsie ed è una misura legittima per evitare la morte ma poi per rendere vitale quello che si è salvato dal pronto sottorso c'è bisogno di fare altre cose che non può essere lasciato soltanto alla politica monetaria ma alla politica economica che purtroppo deve un attimo determinare una convenienza per la grande liquidità internazionale e necessità a sostenere più la produzione di beni e servizi che non i prodotti finanziari devo dire che a sua insaputa a sua insaputa il governo qualche cosa da questo punto di vista l'ha fatto perché in realtà ha avuto sul piano fiscale nel 2017 noi avremo il 26% di tassazione dei profitti finanziari a fronte del 24% degli utili di impresa ma l'ha fatta a sua insaputa io non è una battuta l'ha fatta a sua insaputa mentre quello era un elemento essenziale di una visione diversa nella quale dinanzi alla crescente povertà che in particolare nell'Occidente si sta verificando la inversione delle convenienze sul piano fiscale sul piano normativo su tutte le difficoltà burocratiche che possono esserci la maggiore convenienza per la grande liquidità a dirigersi verso l'economia reale piuttosto che verso l'economia finanziaria è il centro di una visione futura per garantire non nostalgicamente ma il ripristino del potere della politica perché vedete anche qua il dato vero lo dico con molta con molta umiltà ma anche con molta determinazione dice Ferruccio che io forse faccio troppo sono accelerato sarà che io da 40 anni anzi forse un po' meno 35 anni io fuggio dalla signora vestita di nero rettendo di acciaparmi e cammino avanti sempre più di corsa quindi sarà questo che mi comporta determinati atteggiamenti però come si fa a non pensare chi ha vissuto o ha speso una vita per la politica dinanzi a quello che accade lo dico a te che sei stato uno dei grandi direttori del più grande giornale d'Italia a mio giudizio ma come si fa a non scrivere più appunto ma come si fa scrivendo a non fare politica a non dire quello che si avverte quello che probabilmente lo si avverte anche in maniera deformata non ho io non sono come dire io sono parte e quindi la mia partigianeria l'argomento poi può darsi naturalmente vado in esagerazione diverse però il dato vero è che dinanzi ai 72 governi della prima repubblica ma ci vogliamo dire una volta e per tutto lo dico anche a tanti autorevoli amici che stanno e che sono dall'altra parte ma la vicenda fu legata ed è stata sempre legata Fioruccio fai una carrellata storica ai grandi problemi che dividevano in particolare l'area socialista e l'area laico e liberale i governi entravano in crisi per questo non per i congressi perché quando arrivavano i congressi dalla democrazia cristiana e si cambiava come cambiamo nell'89 Demita che voleva essere segretario politico e presidente del consiglio noi in realtà facemmo in tre mesi la crisi di governo e facciamo un nuovo governo che poi è durato tre anni durato con molta tranquillità e serenità ma qual è il punto vero? è che la difficoltà dell'area laica e socialista io l'ho rivista sto rileggendo il libro dello storico Formigoni su Moro e sto facendo una sorta di amarcord perché rivedo quello che ho vissuto naturalmente ma la verità è che erano i partiti italici e socialisti che si dividevano e si scontravano e determinavano le crisi di governo addirittura io devo ricordarlo lo ricordo per una battuta ma c'era sul terreno politico la riunificazione dei due partiti socialisti decisero di riunirsi erano due divennero tre e questo è il punto reale e naturalmente nel 72 negli anni 70 tutti non volevano governare con la democrazia cristiana ma tutti volevano che la democrazia cristiana governasse il 76 il governo di solidarietà nazionale era in antes in rugi devasto come disse Giulio Andreotti nell'ambito della presentazione del governo alle camere era legato proprio da questa esigenza che naturalmente nella fase di difficoltà che avevano in quel momento il partito socialista con la nuova guida trarziana e il partito repubblicano noi parliamo del partito liberale creavano i 72 governi ora hai detto bene tu la verità è che c'era una stabilità permanente appunto tale che qualcuno ci accusava di aver messo il blocco di aver chiuso la democrazia bloccata mentre invece in realtà era bloccato perché la proposta e l'offerta comunista non era oggettivamente accettata dal paese naturalmente la realtà spesso è molto più immaginifica della mia immaginazione e si arriva io prendo atto che sono affascinato dai complotti ma probabilmente anche i gruppi editoriali fanno complotti a propria insaputa perché anche qui diventa io nel primo lo dico e lo ripeto nella prima pagina del primo libro uno dei grandi editori di questo paese mi venne a dire se io volevo essere il suo ministro in un disegno politico che insieme a un gruppo di amici stavano facendo e io la presi napoletanamente in maniera scherzosa e mi hai preceduto perché io Andrea Otti stavamo facendo un progetto editoriale e volevamo che tu fossi il nostro editore naturalmente dopo soltanto due mesi capì che la cosa era molto più pesante e molto più drammatica anche qui lo voglio dire perché siamo ormai a qualche minuto ancora davanti io l'ho scritto oggi anche sul foglio lo voglio ripetere qui nel dibattito politico sulla finanziaria l'invito è quello di non andare se non marginalmente a dire se questa o quella misura è utile o non è utile perché tutti i governi fanno cose utili e tutti i governi fanno cose inutili o spesso dannose insomma è un dato è il saldo finale è il risultato sul quale e io sono per vocazione governativo allora dito un attimo al governo attuale e l'ho detto stamattina sul giornale se il buon governo che ci viene propinato ogni sera per televisione alla fine del quarto anno cioè alla fine del 2017 sarebbero quattro anni di governo ininterrotti il risultato è che noi cresciamo dell'1% scarso dell'1% scarso con coperture che all'epoca nostra Balanz se non vi ho errato Perna ci avrebbero tirato le sedie addosso è vero se avessimo fatto coperture di questo genere si cifrano addirittura e si mette a copertura le quantità legate ad una lotta all'evasione fiscale cioè una cosa inimmaginabile dinanzi a questo se il risultato è l'1% la disoccupazione è all'11% e nel contempo le disuguaglianze complessive finiscono per essere aumentate beh il risultato certamente non garantisce dopo 4 anni che si è fatto il buon governo in più c'è una contraddizione in termini e chiudo se ogni giorno ci sentiamo dire tutte le belle cose che sono state fatte rapidamente in maniera come dire con crescendo rossiniano è vero il tutto allora il segno che si può governare questo paese a costituzione vigente e allora qual è il tuo problema per cui improvvisamente si deve cambiare la costituzione sbagliando e facendo naturalmente errori io lo dico a tutti perché siete tutti elettori ma badate bene che se noi dovessimo far lasciare come dire che si andasse avanti sul sì quello che viene definito malamente il combinato disposto ma in realtà la politica mi ha insegnato una sola cosa la visione dell'assieme veramente me l'ha insegnata la medicina che non esiste la malattia ma esiste il malato nella sua complessità e nella sua fisicità complessiva quindi dinanzi a questo c'è l'esigenza di mettere insieme qual è la democrazia politica dopo se dopo ci sarà un presidente del consiglio che è minoranza e diventa improvvisamente maggioranza per una tecnicalità si nomina larga parte dei propri parlamentari ed eleggi il presidente della repubblica e parte rilevante della corte costituzionale qualcuno mi deve argomentare che questo deve essere un sistema democratico accettabile e a proposito dell'andatura ti può anche piacere perché in realtà può essere anche piacevole come dire io ti aggiungo anche di guardare un attimo la testa la posizione la postura della testa è sempre così è sempre in alto e siccome io da bambino io sono nato il giorno in cui è scoppiata la seconda guerra mondiale il 3 settembre del 39 io nato alle 7 alle 11 la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Russia e alle 17 arrivò la dichiarazione di guerra della Francia ebbene io vi posso garantire che quando ero piccolo e vedevo i bombardamenti dalla costiera sorrentina dove eravamo sfollati io incominciavo avendo paura naturalmente a odiare uno che stava sempre con la faccia con il molto così e allora questa paura mi è rimasta e naturalmente ve la trasferisco perché con il no tutto è possibile con il sì il dopo non c'è grazie 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 a tutti. 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 e cambia. Grazie a tutti. 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 a tutti.